uno degli spettacoli più spaventosi che esistano sulla faccia della terra è senza dubbio l'aspetto dei parigini gente smunta gialla terra orribile che cos'è parigi se non un vasto campo scosso senza tregua da una tempesta di interessi sotto cui turbina una messe di uomini che la morte falce più che in qualsiasi altro luogo della terra e che rinasce sempre più fitta i loro visi tesi e contratti sprigionano da tutti i pori lo spirito i desideri i veleni che riempiano i loro cervelli non son visi quelli ma maschere maschere di debolezza di forza di miseria di gioia e di ipocrisia estenuate e segnate dal marchio indelebile di un'ansiosa avidità che vogliono dunque essi oro o piacere qualche osservazione sull'anima di parigi può spiegare le cause di quella tinta cadaverica che non ha che due età giovinezza e vecchiaia giovinezza palli da scialba imbellettata vecchiaia che vuol sembrare giovane alla vista di questo popolo dissoterrato gli stranieri provano dapprima un senso di disgusto per questa vasta fucina di piaceri ma ben presto non riescono essi stessi a liberarsene e finiscono per soggiacervi di buon grado poche parole basteranno a giustificare fisiologicamente la tinta quasi infernale dei visi parigini poiché non si è punto scherzato quando si è detto che parigi è un inferno la tutto fuma brucia brilla fermenta arde evapora si spegne e si riaccende sfavilla crepita e si consuma nessuna vita fu mai più ardente questa natura sociale sempre in fusione sembra dirsi al termine di ogni opera passiamo ad altro come fa la natura stessa e come essa si occupa di insetti di fiori effimeri di bagatelle di futilità così essa getta fuoco e fiamme dal suo eterno cratere ma prima di analizzare le cause che danno una particolare fisiononia ad ogni tribù di questa nazione perennemente mobile e intelligente è necessario risalire alla causa prima che ne scolora e illividisce gli individui a forza di interessarsi di tutto il parigino finisce per non interessarsi di niente nessun sentimento traspare dal suo viso consunto e grigio come lo stucco delle case l'ordo di ogni sorta di polvere e di fumo indifferente la sera avanti a ciò per cui andrà pazzo domani il parigino vive come un fanciullo qualunque sia la sua età sparla di tutto si consola di tutto di tutto ride tutto dimentica vuole gusta tutto accoglie con passione tutto con non curanza abbandona i suoi re le sue conquiste la sua gloria i suoi idoli siano essi di bronzo o di vetro allo stesso modo con cui butta le sue calze i suoi cappelli la sua fortuna a parigi nessun sentimento resiste all'evidenza delle cose che spingono a una lotta che travolge ogni passione l'amore non è che desiderio l'odio che velleità l'unico parente è il biglietto da mille franchi l'unico amico il monte di pietà questa generale non curanza porta i suoi frutti e nel salotto come nella strada nessuno è di troppo nessuno è del tutto utile nessuno del tutto nocivo sciocco o scaltro sprogiudicato onesto che sia tutto vi si tollera il governo e la ghigliottina la religione e il colera chi domina dunque in questo paese senza leggi morali senza fede senza sentimento ma dal quale partono e in cui si riversano tutti i sentimenti tutte le fedi tutte le leggi morali l'oro e il piacere lasciatevi guidare da queste due parole e percorrete questa grande gabbia di stucco questo nero alveare seguendo i meandri dell'ossessione che tutto agita solleva e affatica volete che cominciamo dal mondo dei miserabili l'operaio il proletario l'uomo che si serve dei piedi delle mani della lingua del dorso del brazzo delle cinque dita per vivere quest'uomo che dovrebbe cominciare con l'economizzare la propria vita aggioga la moglie a qualche macchina e vi inchioda pure il figlio è l'industriale a tirare i fili di questo popolo che con le sue sudice mani cuoce e indora le porcellane cuce gli abiti piega il ferro pialla il legno tesse la canapa e il lino lustra il bronzo imita i fiori ricama la lana doma i cavalli prepara i finimenti ritaglia il rame vernicia le vetture e tornisce i vecchi legni taglia il diamante lucida i metalli trasforma in lastre il marmo laviga i sassi traveste il pensiero colora in bianca e annerisce tutto è l'industriale questo sotto capo venuto a promettere a questo mondo di sudore e di volutà di studio e di pazienza un salario eccessivo a nome dei capricci della città o di quel gran mostro che si chiama speculazione ed ecco questi quadrumani vegliare patire lavorare bestemmiare digiunare camminare stracciarsi a morte per guadagnare l'oro che li affascina eccoli incuranti dell'avvenire e abiti di piacere contare sulle loro braccia come il pittore sulla sua tavolozza gettare il lunedì gran signori di un giorno tutto il loro denaro nelle bettole che circondano di una cintura di fango la città cintura della più impudica delle veneri incessantemente sciolta e serrata in essa si perde la fortuna periodica di questo popolo tanto ferocemente accanito nel piacere quanto tranquillo nel lavoro per cinque giorni la parte operosa di parigi non si concede nessun riposo il suo piacere il suo riposo consistono in una penosa orgia bruna di pelle nera per le ammaccature pallida debbrezza gialla d'indigestione essa non dura che due giorni ma in vola il pane dell'avvenire la minestra della settimana gli abiti della moglie le fasce cenciose del figlioletto questi uomini nati senza dubbio per essere belli perché ogni creatura alla sua bellezza si sono incolonnati fin da bambini sotto il comando della forza sotto il regno del martello delle forbici della filanda e si sono rapidamente vulcanizzati vulcano con la sua bruttezza e la sua forza è l'emblema di questo popolo laido e forte di sublime intelligenza meccanica paziente quando lo vuole terribile un giorno per secolo infiammabile come la polvere da sparo e preparato all'incendio della rivoluzione dall'acquavite tale infine da prendere fuoco ad ogni parola che per lui significhi oro e piacere contando tutti coloro che tendono la mano per l'elemosina per un legittimo salario per cinque franchi accordati a tutti i generi di prostituzione parigina infine per ogni denaro bene o male guadagnato questo popolo conta 300.000 individui senza le osterie il governo non sarebbe forse rovesciato tutti i martedì per fortuna il martedì questo popolo smaltita alla sbornia intontito dal piacere senza più il becco di un quattrino torna al lavoro e al pane asciutto stimolato da un bisogno di procreazione materiale per lui diventata abitudine eppure questo popolo ha le sue eccezioni i suoi uomini completi i suoi napoleoni sconosciuti essi incarnano le sue virtù supreme e ne sintetizzano l'importanza sociale in un'esistenza in cui pensiero e azione si combinano non tanto per creare la gioia quanto per regolarizzare il moto del dolore è stato il caso a rendere economo un operaio il caso a farlo capace di pensare egli ha aperto gli occhi sul proprio avvenire ha incontrato una donna e si è trovato padre e dopo qualche anno di dure privazioni ha iniziato un piccolo commercio di merceria preso a pigione un negozietto ecco lo schizzo di una vita normale seppure la malattia o il vizio non la troncano salutate questo re del movimento parigino che ha domato tempo e spazio salutate questa creatura di sal nitro e di gas che dà figli alla francia durante le sue notti di lavoro e moltiplica di giorno la propria individualità per il servizio la gloria e il piacere dei suoi concittadini quest'uomo appartiene ad un tempo ad una moglie graziosa alla sua casa al costituzionale al suo ufficio alla guardia nazionale all'operà a dio ma il suo unico pensiero è di trasformare in scudi il costituzionale l'ufficio all'operà la guardia nazionale la moglie e dio salutate ora un insensurabile cumulista in piedi ogni giorno alle 5 egli ha attraversato di volo lo spazio che divide il suo domicilio da rumen matre tiri il vento tuoni piova o nevichi eccolo al costituzionale dove attende alla distribuzione dei giornali alle 9 in seno alla famiglia snocciola arguzzi alla moglie le strappa un bacio gusta una tazza di caffè e sgrida i ragazzi alle 10 meno un quarto si reca in municipio e là seduto su una poltrona come un pappagallo sul suo bastone registra senza concedersi una lacrima un sorriso le morti e le nascite di tutto un quartiere tutta la felicità e il dolore del quartiere passano per la punta della sua penna nulla gli pesa e gli tira dritto prende il suo patriottismo già fatto nel giornale non contraddice nessuno grida e applaude tutti abita a due passi dalla propria parrocchia e può in occasione di qualche cerimonia importante lasciare il suo posto ad un incaricato per andare a cantare un requiem nella chiesa di cui la domenica e giorni di festa egli ha il più bello ornamento e la voce più maestosa e dove torce con energia la larga bocca facendo tuonare un giocondo amen libero alle 4 dal suo servizio ufficiale riappare per portare gioia e gaiezza nel negozio più celebre della città sua moglie è fortunata perché lui non ha tempo di essere geloso è un uomo d'azione non di sentimento ed appena arrivato stuzzicali commesse i cui occhi attirano i clienti se la gode in mezzo ai fazzoletti alla mussola lavorata da abili operaie più spesso prima di pranzo sbriga una pratica copia una pagina di giornale porta all'usciere una cambiale da protestare alle 6 ogni giorno egli si trova fedele al suo posto inamovibile basso baritono nei cori all'operà è pronto a farsi soldato arabo prigioniero selvaggio contadino ombra leone diavolo genio schiavo e un uco nero bianco abilissimo a provocare gioia e dolore pietà e meraviglia ad emettere sempre gli stessi gridi a tacere a cacciare a battersi a rappresentare roma o l'egitto ma sempre in petto nient'altro che piccolo commerciante a mezzanotte egli ridiventa bravo marito e tenero padre si introduce nel letto coniugale con l'immaginazione ancora tesa dalle ingannevoli forme delle ninfe dell'operà e traduce così a profitto dell'amore coniugale le depravazioni del mondo e le voluttuose gambe della taglioni infine se dorme si addormenta subito e sbriga il suo sonno come ha sbrigato la sua giornata non è egli forse il movimento fatto uomo lo spazio incarnato il proteo della civiltà quest'uomo assomma in sé ogni cosa storia letteratura politica governo religione arte militare non è forse un'enciclopedia vivente un atlante grottesco come parigi incessantemente in marcia e commessa senza mai riposo egli è tutto gambe nessuna fisionomia potrebbe conservarsi intatta sotto simili fatiche forse l'operaio che muore vecchio a trent'anni lo stomaco rovinato da dosi sempre più forti di acquavite potrà secondo alcuni ricchi filosofi essere più felice che non il commerciante l'uno muore d'un colpo l'altro poco per volta dalle sue otto industrie dalle sue spalle dalla sua gola dalle sue mani dalla sua donna e dal suo commercio costui ricava come d'altrettanti poderi figli franchi e la più lavoriosa felicità che mai cuore d'uomo abbia creata questa fortuna e questi figli che sono tutto per lui diventano preda di quel mondo superiore al quale gli porta appunto i suoi scudi e i figli allevati in collegio essi distruiti di lui osano fissare più in alto i loro sguardi ambiziosi spesso il rampollo di un piccolo commerciante vuol diventare qualcuno nello stato questa ambizione ci porta a considerare un'altra sfera del mondo parigino salite di un piano entrate nel mezzanino o discendete dalla soffitta fermandovi al quarto piano penetrate cioè nel mondo di coloro che posseggono qualcosa e vedrete che il risultato è identico i grossi commercianti e i loro figli i piccoli impiegati di banca profondamente onesti i profittatori le anime dannate i primi e gli ultimi commessi gli scrivani degli usceri dell'avvocato del notaio insomma i membri attivi pensanti e ragionanti di questa piccola borghesia che sbriciola gli interessi di parigi e ad un tempo la difende dai pericoli incetta le derrate immagazzina i prodotti fabbricati dagli operai mette in scatola i frutti del mezzogiorno e i pesci dell'oceano imbottiglia i vini delle pendici assolate stende le mani sull'occidente per accogliervi gli sciagli spregiati dai russi e dai turchi va ad insettare le merci fino alle indie si corica e aspetta il momento buono per vendere sconta le cambiali arrotola e incassa i valori imballa parisi intera tiendocchio alle fantasie dell'infanzia spia i capricci della tamatura e ne sfrutta persino le malattie ebbene senza bere acquavite come l'operaio senza avvoltolarsi nel fango dei bassi fondi pure tutti vanno oltre le loro forze tendendo oltre misura corpo e anima dissecandosi nei desideri sfibrandosi in corse precipitose in essi la torsione fisica si compie sotto la sferza degli interessi sotto il flagello delle ambizioni che tormentano le classi elevate di questa mostruosa città allo stesso modo che quella dei proletari si è svolta sotto il crudele bilanciere delle elaborazioni materiali continuamente volute dal dispotismo dell'io lo voglio aristocratico anche là dunque per obbedire a questi due supremi padroni che sono l'oro e il piacere bisogna divorare il tempo incalzarlo trovare disponibili più di 24 ore al giorno snervarsi uccidersi vendere 30 anni di vecchiaie per due anni di riposo illusorio l'operaio giunto all'ultimo stadio dell'esaurimento finisce per morire all'ospedale il piccolo borghese persiste a vivere e vive ma come instupidito lo vedete sciupato in viso assente invecchiato gli occhi senza luce le gambe mal ferme mentre si trascina con lo sguardo inebetito sul viale cintura della sua venere della sua diletta città ma che vuole il borghese la daga della guardia nazionale la minestra assicurata un posto decente al perlescese e per la sua vecchiaia un po d'oro legittimamente guadagnato il suo lunedì è per lui la domenica il suo riposo è la passeggiata in carrozza anolo la scampagnata durante la quale la moglie e i figli ingoiano allegramente la polvere o si arrostiscono al sole la sua barriera al ristorante dai pranzi indigesti e famosi o qualche ballo in famiglia per il quale si è obbligati a soffocare sino a mezzanotte certi ingenui si meravigliano della mobilità da cui sono colpite le monadi che il microscopio fa scorgere in una goccia d'acqua ma che direbbe il gargantua di rablè personaggio di sublime ed incompresa audacia che direbbe questo gigante caduto dalle sfere celesti se si divertisse a contemplare il movimento di questa seconda vita parigina racchiusa in una formula come questa avrete certamente visto una di quelle piccole baracche fredde anche d'estate e appena riscaldate d'inverno da una misera stufetta che si trovano sotto la vasta tettoia di rame che copre il mercato del grano sin dal mattino la signora mediatrice è là si dice che essa si guadagna in questo modo circa 12.000 franchi all'anno e mentre la signora si veste il signor marito si reca nel suo scuro e sordido ufficio a imprestare denaro a breve scadenza ai piccoli commercianti del quartiere alle nove e già all'agenzia dei passaporti dove all'ufficio di sotto capo la sera eccolo alla casa del teatro italiano di qualche altro teatro i bambini sono a balia e ne tornano solo per filare in un collegio o in un pensionato il signore e la signora abitano ad un terzo piano non hanno che una cuoca danno dei balli in un salotto di 12 piedi per 8 illuminato da qualche lucerna ma la figlia avrà 150 franchi di dote ed essi sui 50 anni cominceranno a mostrarsi all'operà in un palco di terza fila all'onchamp in carrozza e sui viali nei loro abiti stinti tutti i giorni di sole il quartiere li stima il governo li ama l'alta borghesia se li tiene buoni a 65 anni il signore è decorato della legion d'onore è invitato ai ricevimenti del padre di suo genero sindaco di circondario il lavoro di tutta una vita innalza i figli di questa piccola borghesia alla sfera superiore il figlio del droghiere si fa notaio quello del mercante di legna magistrato non manca un solo dente a questo grandioso ingranaggio mosso dal flusso ascendente del denaro ed eccoci al terzo cerchio di questo inferno che avrà forse un giorno il suo dante in questa specie di ventre di parigi che digerisce gli interessi della città condensandoli in forma d'affari si agita come per un acremoto intestinale la folla degli avvocati dei medici dei notai degli affaristi dei banchieri dei grossi commercianti degli speculatori dei magistrati qui vanno ricercate le vere cause del disfacimento fisico e morale questa gente vive in uffici malsani in anticamere pestilenziali in bugigattoli senza luce passa i giorni curva sotto il peso degli affari si leva all'alba per essere in grado di non farsi svaligiare per guadagnare tutto per non perdere nulla per afferrare un uomo il suo denaro per avviare un affare o per buttarlo all'aria per tirar partito dalla minima occasione per far impiccare un uomo o per vendergli la libertà i loro cavalli invecchiano e crepano prima del tempo proprio come essi per il troppo lavoro il tempo che essi non possono allungare né accorciare è il loro tiranno quale anima può rimanere grande pura generosa e morale quale viso bello in un mestiere che costringe a sopportare il peso delle pubbliche miserie ad analizzarle stimarle pesarle incolonnarle dove lascia il proprio cuore questa gente non so ma certo se ne hanno uno prima di scendere ogni mattina sino al fondo delle pene che straziano le famiglie lo devono abbandonare da qualche parte non esiste nessun mistero per essi che vedono il rovescio di una società di cui sono i confessori e che disprezzano a furia di misurarsi con la corruzione o ne hanno orrore e pena o per stanchezza e per segreto compromesso finiscono per sposarla è naturale che questi uomini che leggi e distituzioni spingono come corvi sui cadaveri ancora caldi si stanchino di tutti i sentimenti ogni ora il finanziere pesa i vivi il notaio i morti l'uomo di legge le coscienze obbligati a non stare mai zitti sostituiscono la parola all'idea la frase al sentimento la loro anima non è più che una laringe e finiscono per logorarsi e demoralizzarsi il grande commerciante il giudice l'avvocato non possono avere un retto modo di giudicare perché essi non giudicano più ma applicano regole norme che falsano la specie trasportati dalla loro esistenza agiata non sono più né sposi né padri né amanti sfiorano appena la vita e vivono alla giornata spinti dagli affari della grande città rientrati in casa li aspettano inviti al ballo all'opera a feste dove essi si fanno clienti conoscenti e protettori tutti mangiano smodatamente giocano si colicano tardi e i loro volti diventano presto molli fiacchi congestionati a così terribile dispersione di forza intellettuale a così continue contrazioni morali essi non appongono il piacere che sarebbe troppo poco ma il bagordo l'orza segreta e spaventosa per la quale essi che dettano la morale alla società hanno a disposizione ogni mezzo e nascondono sotto una scienza speciale la loro reale stupidità essi così abili nel loro mestiere ignorano tutto ciò che ne è fuori ma per salvare il loro amor proprio discutono tutto a casaccio in queste interminabili discussioni si mostrano sempre increduli mentre in realtà si lasciano facilmente gabbare per dispensarsi dall'avere un'opinione propria quasi tutti trovano comodo adottare i pregiudizi sociali letterari e politici mettendo così la loro coscienza al riparo del codice o del tribunale di commercio dotati di qualità da uomini notevoli finiscono per diventare dei mediocri che strisciano davanti alle cime i loro visi presentano quell'agropallore quei falsi colori quegli occhi foschi e cerchiati quelle bocche sensuali che fanno riconoscere all'osservatore acuto i sintomi dell'imbastardimento del pensiero e della sua rotazione nel cerchio di una specialità che uccide le facoltà creative del cervello e il dono delle larghe vedute delle generalizzazioni e delle deduzioni nella fornace degli affari finiscono per raggrinzire quasi tutti e nessuno che si sia lasciato prendere nell'ingranaggio di queste terribili e grandi macchine può divenire un grande uomo se è medico o di medicina ne sa ben poco o è un'eccezione un biscià che muore giovane se grande negoziante pure rimane qualcuno si tratta di un aspetto di Jacques Coeur esercitò forse Robespierre Danton poi non era che un pigro in attesa chi d'altronde ha mai invidiato i visi di Danton e di Robespierre per quanto superbi e grandiosi questi eterni affacendati ammucchiano il denaro per potersi legare alle famiglie aristocratiche l'ambizione dell'operaio è quella di diventare piccolo borghese e anche qui albergano passioni di questo tipo a Parigi la vanità assomma in sé tutte le passioni il tipo rappresentativo di questa classe potrebbe essere il borghese ambizioso che dopo una vita di continui affanni e di continui manovre riesce ad arrivare al consiglio di stato come una formica passa per una fessura oppure potrebbe essere anche qualche redattore di giornale abilissimo e intrigante che il re forse per vendicarsi della nobiltà nomina pari di Francia oppure qualche notaio diventato sindaco di circondario tutta gente è miserita dagli affari e se arriva alla meta vi arriva morta in Francia sono le parrucche a farsi strada soltanto Napoleone, Luigi XIV e gli altri grandi re si sono serviti dei giovani per attuare i loro progetti sopra questa sfera vive il mondo degli artisti e qui pure i volti segnati dal marchio dell'originalità appaiono spossati, stanchi, devastati seppure con una loro nobiltà sopraffatti dal bisogno di produrre dominati dai propri costosi capricci sfiniti da un genio divoratore affamati di piacere gli artisti parigini si vogliono rifare delle lacune lasciate dall'indolenza di un eccessivo lavoro e cercano in vano di conciliare mondo e gloria, denaro ed arte l'artista vive continuamente sotto l'incubo del creditore i suoi bisogni creano i debiti e i suoi debiti gli rubano le notti e dopo il lavoro il piacere l'attore recita sino a mezzanotte studia il mattino e a mezzogiorno prova lo scultore par quasi piegare sotto la statua il giornalista è un pensiero in marcia come il soldato in guerra il pittore di moda è sfinito dal troppo lavoro il pittore incompreso si strugge la concorrenza, le rivalità, le calunnie uccidono questi nobili ingegni gli uni nella loro disperazione si lasciano andare negli abissi del vizio gli altri muoiono giovani per essersi speso troppo presto l'avvenire poche di queste fisionomie sublimi in origine rimangono belle ed altronde chi capisce la sfavillante bellezza delle loro teste un viso d'artista ha sempre nelle sue linee qualcosa di eccessivo rispetto a quelle convenzioni in cui per gli imbecilli consiste il bello ideale quale potenza le distrugge la passione e ogni passione si risolve a Parigi in oro e piacere ma non vi sembra di respirar meglio di sentirvi circondati da un'aria e da uno spazio più puli qui né fatiche né pene il turbine dell'oro ha raggiunto le vette dal fondo in cui comincia ad incanalarsi dalle botteghe in cui l'arrestano appena deboli ripari dai banchi e dalle officine che lo trasformano in verghe l'oro sotto forma di dote o di eredità portato da mani di fanciulla o da ossute dita di vecchio zampilla verso gli aristocratici che sanno come farlo scorrere e risplendere ma prima di lasciare i quattro terreni sui quali si appoggia l'alta proprietà parigina non bisogna forse enunciate le cause morali ricercare quelle fisiche mostrare la peste sotterranea impressa sui visi dei portinai dei bottegai degli operai segnalare quella deleteria influenza fisica la cui corruzione è solo eguagliata da quella degli amministratori parigini che si compiacciono di lasciarla sussistere se l'aria che circola nelle case in cui vive la più gran parte dei borghesi è infetta e l'atmosfera delle strade sembra sputare niasmi crudeli sin dentro e in retrobottega sappiate che oltre a questo le 40.000 case di questa grande città bagnano i piedi in immondizie che le autorità non hanno ancora saputo chiudere entro muri che possono impedire al più fetido fango di filtrare attraverso il suolo avvelenarvi i pozzi e ridare sotterraneamente a Lutezia il suo celebre nome una metà dei parigini dorme fra le isolazioni putride dei cortili e delle strade ma avviciniamoci ai grandi salotti ariosi e dorati ai palazzi con giardino al mondo ricco, ozioso, felice qui i visi sono intristiti e rosi dalla vanità nulla vi è di irreale cercare il piacere non vuol dire forse trovare la noia la gente di mondo ha ben presto estenuato la propria natura occupati come sono a fabbricarsi la gioia essi hanno in breve abusato dei loro sensi come l'operaio abusa dell'acquavite il piacere è come certe sostanze mediche per ottenere sempre il medesimo effetto bisogna raddoppiare la dose e l'ultima racchiude morte e abbrutimento tutte le classi inferiori si abbassano davanti ai ricchi e ne spiano i gusti per poterli sfruttare come resistere a tutti gli abili mezzi di seduzione che si ordiscono in questo paese così parigia i suoi teriachi per i quali il gioco la gastrolatria e la cortigiana sono un oppio e ben presto potrete osservare che costoro non hanno passioni ma fantasie romantiche gusti e amori frigidi qui regna l'impotenza non vi sono più idee finite tutte in moine da boudoir in scimmiottature femminili qui sono sbarbatelli di quarantenni e dottori di sedici i ricchi possono trovare a Parigi uno spirito belle fatto una scienza già masticata opinioni già formulate sono quindi dispensati dall'avere uno spirito a una scienza un'opinione proprie in questo mondo la mancanza di senno è pari al libertinaggio si diventa avari di tempo a forza di perderne non cercate né affetto né idee gli abbracci nascondono una profonda indifferenza la cortesia un eterno disprezzo chi ama il prossimo motteggi insignificanti indiscrezioni pettegolezzi luoghi comuni ecco il fondo del loro linguaggio ma questi infelici felici si scusano dicendo che non si riuniscono fra loro per lanciare massime alla la roste Foucauld come se non esistesse una via di mezzo trovata dal diciottesimo secolo fra il troppo pieno e il vuoto assoluto se qualche uomo ancora in gamba esce in una frase fine e leggera non è compreso sicché stanchi di dare senza mai ricevere costoro finiscono per chiudersi in casa lasciando agli sciocchi il dominio del mondo questa vita vuota questa continua attesa di un piacere che non arriva mai questa noia infinita questa vacuità di spirito di cuore e di cervello questa stanchezza si stampano sui linamenti creando vigi di cartapesta rughe premature fisionomie in cui soggigna l'impotenza luccica il riflesso dell'oro e l'intelligenza è totalmente assente uno sguardo alla parigi morale dimostra che la parigi fisica non potrebbe essere diversa da quella che è questa città incoronata è una regina sempre incinta che patisce voglie irresistibili e furiose parigi è la testa del globo un cervello pieno di genio che dirige la civiltà umana un grand'uomo un artista continuamente creatore un politico acutissimo ed ha necessariamente i vizi del grande uomo le fantasie dell'artista e i disgusti del politico nella sua fisionomia si leggono il bene e il male il combattimento e la vittoria la battaglia morale dell'89 la cui eco non è ancora spenta nei più remoti angoli del mondo l'abbattimento del 1814 come potrebbe dunque essere più morale più cordiale più netta della caldaia di quei magnifici piroscopi che voi vedete solcare le onde non è forse Parigi una sublime nave carica di intelligenza e il suo stemma è uno di quegli oracoli che talvolta si permette il destino la ville de Paris ha l'albero maestro tutto di bronzo scolpito a vittorie e la sua vendetta è Napoleone dondola anch'essa per il lungo e per il largo ma attraversa tutto il mondo fa fuoco su di esso alle cento bocche delle sue tribune solca i mari della scienza vi naviga a vele spiegate e dall'alto delle sue vedette grida per mezzo dei suoi scienziati e dei suoi artisti avanti seguitemi il suo numeroso equipaggio si diverte a pavesarla di sempre nuove bandiere furbi mozzi ridono sui cordami una greve borghesia ne è la zaporra operai e marinai vi lavorano incatramati nelle cabine stanno felici passeggeri eleganti ufficiali fumano i loro sigari appoggiati al parapetto e infine sulla tolda i suoi soldati novatori o ambiziosi pronti ad approdare ad ogni riva pur apportandovi una viva luce domandano una gloria che è un piacere o amori che si pagano con l'oro l'eccessiva agitazione dei proletari la depravazione degli interessi che spezzano le due borghesia la crudeltà di pensiero degli artisti gli eccessi del piacere ricercati dai ricchi spiegano la normale bruttezza della fisionomia parigina solo in oriente la razza umana presenta un busto magnifico ma è il risultato della calma di quei profondi filosofi dalle corte gambe e dai torsi quadrati che disprezzano e hanno in orrore il moto mentre a Parigi piccoli medi grandi corrono saltano e si divincolano frustati dalla spietata dea che è la necessità necessità di denaro di gloria di piaceri la più straordinaria delle eccezioni che vi si incontra assai raramente è un viso fresco riposato grazioso se ne vedete uno appartiene di certo ad un giovane e florido ecclesiastico o a un buon abate quarantenne dal triplicimento o ad una giovinetta di puri costumi come se ne allevano ancora in certe famiglie borghesi o ad una madre di vent'anni che allatta il suo primo figlio ed è ancora piena di illusioni o a un giovane arrivato dalla provincia e affidato a una devota nobildonna che lo lascia sempre in bolletta o a qualche garzone di bottega che si corica a mezzanotte stanco d'aver piegato stoffe su stoffe e che si alza alle sette per preparare la vetrina o ancora ad un uomo di scienza o di poesia che vive monasticamente e agiatamente sposato a qualche bella idea sobrio paziente e casto o a qualche sciocco contento di sé che si nutre di idiozie sempre occupato a sorridere e infine alla felice e molle specie degli oziosi e sulle persone che a Parigi sono veramente felici perché sono le sole che sanno apprezzarne ad ogni istante la mutevole poesia eppure esiste a Parigi una categoria di persone privilegiate che sa trarre profitto da tutto questo movimento di interessi di affari di arti e di denaro le donne benché mille cause operino segretamente a sciuparne la fisionomia pure si incontrano nel mondo femminile delle piccole tribù felici che vivono all'orientale conservando così la loro bellezza ma è difficile incontrarle a piedi per le strade queste donne che vivono nascoste e non aprono i loro petali che a certe ore come rare piante esotiche Parigi è il paese dei contrasti se i sentimenti veritieri vi allignano raramente pure anche qui si possono incontrare nobili amicizie e devozioni senza limite in questo campo di battaglia degli interessi e delle passioni in mezzo a questa società in marcia in cui trionfa l'egoismo e ognuno deve difendersi da solo sembra che i sentimenti quando si mostrano si compiazzano ad essere quasi per contrasto interi e sublimi a Parigi si vede nell'aristocrazia di tanto in tanto qualche splendido viso di giovane frutto di una eccezionale educazione e di eccezionali costumi alla giovanile bellezza del sangue inglese uniscono la fermezza di tratti meridionali lo spirito francese la purezza della forma il fuoco dei loro occhi il delizioso vermiglio delle labbra lo splendido nero dei fini capelli la carnagione bianchissima il taglio squisito del viso li rendono simili a bei fiori umani magnifici a vedersi in mezzo alla folla delle altre fisionomie fosche e sfiorite con torte adunche le donne provano subito alla vista di questi giovani quel piacere con cui gli uomini guardano una giovanetta graziosa modesta e ornata di tutte le verginità di cui la nostra immaginazione si diletta ad abbellire la fanciulla perfetta se un rapido colpo d'occhio gettato sui parigini ha fatto comprendere quanto sia raro incontrarvi un volto raffaellesco e quale appassionata ammirazione esso debba ispirare la nostra storia si troverà pienamente giustificata quod erat demonstrandum ciò che si doveva dimostrare se si è permesso applicare le formule della scolastica alla scienza dei costumi in una di quelle belle mattine di primavera che le foglie già aperte non sono ancora verdi e il sole comincia a far fiammeggiare i tetti e il cielo è azzurro quando il popolo di Parigi esce dai suoi alveari a ronzare sui viali e si snoda come un serpente multicolore da qui della Pea alle tuierie salutando le pompe nuziali della natura in una di quelle mattine dunque un giovane la cui bellezza era pari a quella della giornata elegantemente vestito grazioso e disinvolto un figlio dell'amore un figlio naturale di Lord Dudley e della celebre Marchesa de Vordac passezzava per il grande viale delle tuierie questo adone che rispondeva al nome di Henry de Marseille era nato in Francia dove Lord Dudley aveva fatto sposare la giovane madre di Henry con un vecchio gentiluomo il signor de Marseille quest'ultimo specie di farfalla stinta e quasi spenta riconobbe il bambino per suo per il compenso dell'usufrutto per il compenso dell'usufrutto di una rendita di centomila franchi spettante al figlio putativo follia che non costò poi molto a Lord Dudley dato che la rendita francese valeva allora 17 franchi e 50 circa morto il vecchio gentiluomo senza aver neppure riconosciuto la moglie la signora de Marseille sposò il Marchese de Vordac ma prima di divenire Marchesa non siedia da gran cura del figlio né di Lord Dudley c'era stata la guerra tra Francia e Inghilterra a dividere i due amanti e la fedeltà ad ogni costo non era e non sarà mai di moda a Parigi il successo di donna elegante graziosa e adorata da tutti addormentò nella parigina ogni sentimento materno e Lord Dudley non si curò del figlio più della madre la rapida infedeltà da parte di una fanciulla ardentemente amata gli ispirò una specie di avversione per tutto ciò che da essa veniva del resto i padri non amano che i figli con i quali sono vissuti e che conoscono a fondo legge sociale assai importante per la pace delle famiglie che devono aver presente sempre tutti i celibi perché dimostra che la paternità è un sentimento alimentato in serra calda dalla moglie dai costumi e dal diritto il povero Henry de Marseille non ebbe come padre che quello dei due che non era obbligato ad esserlo la paternità del signor de Marseille fu naturalmente molto incompleta i figli secondo natura non godono della compagnia del padre che assai raramente e il gentiluomo non fece che imitare la natura un povero uomo non avrebbe venduto il suo nome se non avesse avuto dei vizi e si mise a bazzicare senza rimorso per le bische bevendosi così quel poco che il tesoro paga ai rentier abbandonò poi il fanciullo ad una vecchia sorella una signorina de Marseille che ne ebbe gran cura e gli diede servendosi della magra pensione assegnatale dal fratello un precettore un abate senza il becco di un quattrino che ben considerato l'avvenire del giovane risolse di ripagarsi sui centomila franchi di rendita delle cure prestate all'amato pupillo il caso volle che questo precettore fosse un vecchio prete uno di quegli ecclesiastici nati per divenire cardinali in Francia o Borgia sotto la tiara il fanciullo imparò da lui in tre anni quello che non avrebbe imparato in dieci anni di collegio questo grande abate di Maroni completò l'educazione del suo allievo facendogli conoscere la civiltà in tutti i suoi aspetti lo nutri della propria esperienza lo condusse poco nelle chiese qualche volta tra le quinte più spesso fra le cortigiane gli svelò ad uno ad uno tutti i sentimenti umani gli mostrò come la politica si svolgeva allora nel cuore dei salotti gli rivelò ad uno ad uno gli intrighi del governo e tentò per amore di una bella natura abbandonata a se stessa ma ricca di speranze di fargli da madre non è forse la chiesa madre di tutti gli orfanelli l'alunno non lo deluse questa perla d'uomo morì vescovo nel 1812 contento d'avere allevato un giovane che a 16 anni era in grado di farla ad un uomo di 40 chi si sarebbe aspettato di trovare un cuore di bronzo e un cervello d'alcolizzato sotto apparenze che più seducenti non seppero neppure dare i candidi maestri antichi al serpente del paradiso terrestre e questo non è ancora nulla che il buon diavolo violetto aveva procurato al suo pupillo tali conoscenze nell'alta società di Parigi da equivalere ad altre centomila lire di rendita così questo prete vizioso ma abile incredulo ma adottissimo perfido eppur giudizioso debole all'apparenza quanto vigoroso nel corpo e nello spirito fu veramente così utile al suo allievo così compiacente ai suoi vizi così abile e profondo così giovane a tavola a frascati e chissà dove che il riconoscente Henri de Marseille non si inteneriva più nell'anno 1814 che davanti al ritratto del suo vescovo unica cosa mobile avuta da lui in eredità è con il genio di uomini come questo che la chiesa cattolica apostolica romana compromessa dalla debolezza delle reclute e dalla decrepitezza dei papi riuscirà a salvarsi la guerra continentale impedì al giovane de Marseille di conoscere il suo vero padre del quale è persino dubbio che sapesse il nome ne conobbe maggiormente la madre naturale poi che rimpiangesse così poco il padre putativo quanto alla sua sola madre la signorina de Marseille egli le rese quando essa morì una piccola ma graziosa tomba nel cimitero di Perla Chase Monsignor de Maroni aveva garantito alla vecchia un buonissimo posto in cielo cosicché vedendola morire contenta Henri versò lacrime egoiste ma la bate ci mise poco ad asciugare le lacrime del suo alunno facendogli osservare che la buona signorina tabaccava imbruttiva e diveniva così sorda e noiosa che semmai la morte bisognava ringraziarla il vescovo aveva fatto emancipare il suo allievo nel 1811 poi quando la madre del signor de Marseille si riposò il prete in un consiglio di famiglia assunse una di quelle oneste mediocrità che si trovano dietro i confessionali e lo incaricò di amministrare i suoi beni le cui rendite egli conferiva di buon grado al bene comune ma di cui voleva riservarsi il capitale sul finire dell'anno 1814 il nostro Henry de Marseille si trovò completamente privo di obblighi verso chi che sia libero come un uccello senza compagnia aveva 22 anni compiuti ma non ne dimostrava più di 17 del padre lord Dudley aveva gli occhi azzurri e traditori della madre i folti capelli neri d'entrambi il sangue purissimo la pelle e la giovinezza l'aria dolce e modesta la vita slanciata le belle mani vederlo voleva dire per una donna innamorarsene pazzamente concepire uno di quei desideri che mordono il cuore ma si spengono rapidamente per l'impossibilità di venire appagati così poco tenace è la parigina quante poche fra esse potrebbero assumere il motto degli orange manterrò sotto questo fresco vigor di vita e a dispetto dei limpidissimi occhi Henry aveva l'audacia di un leone e l'agilità di una scimmia cavalcava da centauro guidava con infinita grazia era lesto come cherubino e tranquillo come una pecora sapeva nella lotta a terrare un ercole dei sobborghi al piano il suo tocco era da artista e quanto alla voce se avesse voluto gli avrebbe potuto procurare da barbaia scritture da cinquantamila franchi la stagione ahimè un'orribile colpa offuscava tutte queste belle qualità e questi graziosi difetti Henry de marseille non credeva né agli uomini né alle donne né a dio né al diavolo la natura aveva iniziato un'opera che un prete aveva compiuto a perfezione è necessario aggiungere per rendere comprensibile questa avventura che lord Dudley trovò molte donne disposte a tirare altri esemplari di sì delizioso ritratto il suo secondo capolavoro del genere fu una fanciulla Eufemí nata da una donna spagnola educata all'Havana e condotta a Madrid in compagnia di una giovane creola degli Antille la testa piena di rovinosi capricci coloniali ma per fortuna essa sposò un vecchio e ricco signore spagnolo Don Chios marchese di San Real che dopo l'occupazione della Spagna da parte delle truppe francesi si era stabilito a Parigi in Rue Saint-Lazaire fosse negligenza o rispetto dell'innocenza lord Dudley non rese note ai figli tutte queste parentele che gli andava loro creando è uno di quei piccoli inconvenienti che bisogna perdonare alla civiltà in considerazione dei suoi vantaggi lord Dudley venne a Parigi nel 1816 per sfuggire alla giustizia inglese che dall'Oriente non protegge altro che la merce il lord turista visto per caso Henry chiese chi fosse e udito il suo nome esclamò ah mio figlio una bella disgrazia questa è la storia di un giovane che verso la metà d'aprile dell'anno 1815 percorreva con indolenza il gran viale delle tuierie alla maniera di quegli animali che consapevoli della loro forza avanzavano pieni di maestosa tranquillità le borghesi si volgevano a guardarlo non le altre che l'attendevano al ritorno dalla passeggiata cercando di imprimersi nella memoria i tratti della sua suave figura che fai di domenica da queste parti chiese a Henry il marchese de Ronquerol c'è della selvaggina rispose il giovane questo dialogo fu accompagnato da due occhiate molto più eloquenti di qualsiasi parola il giovane osservava i passanti con quella prontezza di vista ed udito propria del parigino che sembra non udire né vedere mai nulla ma vede e ode sempre tutto un giovane gli si avvicinò e presogli familiarmente il braccio gli disse come va caro de Marseille benissimo gli rispose de Marseille con quell'aria affettuosa che per un giovane parigino non significa proprio niente i giovani parigini non hanno infatti nulla di comune con i giovani delle altre città essi possono dividersi in due grandi categorie quelli che posseggono qualche cosa e quelli che non posseggono nulla e ancora quelli che pensano e quelli che spendono ma intendiamoci qui non si parla che di coloro che conducono a Parigi una vita deliziosamente elegante ve ne sono altri ragazzi che scoprono tardi la vita parigina e generalmente vi si bruciano le ali essi non speculano ma studiano e sgobbano duro come dicono gli altri con disprezzo vi sono poi altri ancora poveri o ricchi non importa che abbracciano una carriera e la seguono con metodo veri Emile di Rousseau cittadini modelli che non vanno mai in società i diplomatici li qualificano ingenui vero o no certo è che essi vanno poi ad aumentare la schiera di quei mediocri che piega sotto il suo peso la Francia eccoli sempre pronti a rovinar tutto con la loro mediocrità e la loro impotenza che essi pomposamente chiamano probità di costumi questi primi della classe della società infestano le amministrazioni pubbliche l'esercito la magistratura le camere la corte immiseriscono il paese e sono in un certo senso la linfa che appesantisce e infiacchisce il corpo pubblico per essi gli uomini intelligenti sono degli immorali o dei mascalzoni ma per fortuna la gioventù elegante li tratta come ci meritano con sofrano disprezzo è dunque naturale che alla prima occhiata si credano molto distinte le due categorie di giovani che conducono una vita brillante ma un osservatore che vada oltre le apparenze si convince ben presto che le differenze sono puramente morali e che nulla è più ingannevole di questa amabile scorza essi hanno in comune il gusto di parlare di tutto a diritto o a rovescio di giudicare con la più grande disinvoltura uomini e cose letterature d'arte di interrompere con una freddura la più seria delle conversazioni di mettere in ridicolo scienza i scienziati di disprezzare tutto ciò che non conoscono o che temono superiori a tutto e a tutti imbroglierebbero anche il padre pronti poi a versare lacrime di coccodrillo in seno alla madre non credono a nulla sparlano delle donne si fingono modesti e in realtà obbediscono a qualche cortigiana o a qualche vecchiaccia tutti marci sino al midollo per calcolo depravazione febbre di successo sondandoli per il mal della pietra si finirebbe per trovare quest'ultima nel loro cuore sono supremamente affascinanti e hanno sempre in bocca la parola amicizia il loro mutevolissimo gergo è dominato da un eterno spirito di delisione i loro abiti tendono al bizzarro ripetono volentieri le sciocchezze degli attori in voga cercano di avvantaggiarsi sugli altri usando il disprezzo e l'impertinenza simili alla bianca schiuma che corona nei flutti nelle tempeste restano del tutto indifferenti alle sventure della patria anche il giorno di vaterloo anche durante il colera e la rivoluzione pranzano ballano e si divertono come niente fosse le spese che fanno sono pressapoco le stesse ma qui cominciano anche le differenze di questi denari sempre fluttuanti e piacevolmente dilapidati chi possiede il capitale e chi l'aspetta i sarti sono gli stessi non i saldi alle fatture gli uni simili a setacci ricevono ogni sorta di idee e non ne conservano alcuna gli altri dopo averle ben vagliate assimilano le migliori i primi non sanno nulla ma capiscono tutto prestano a chi non ha bisogno di nulla e non offrono mai nulla a chi realmente avrebbe bisogno gli altri studiano di nascosto i pensieri altrui e prestano ad interessi elevatissimi i loro soldi e le loro follie gli uni non hanno più impressioni precise e fedeli perché la loro anima come un vecchio specchio troppo usato non riflette più nessuna immagine gli altri pur fingendo di buttarla curano moltissimo la propria vita i primi per una vaga speranza si votano senza convinzione a un sistema pronti ad abbrazzarne un altro appena il vento cambia i secondi scrutano l'avvenire lo sondano e vedono nella coerenza politica ciò che gli inglesi vedono nell'onestà commerciale un elemento di successo ma dove il giovane ricco commenta con una freddura o un motto di spirito persino i mutamenti dinastici l'altro forse per mezzo di qualche segreta bassezza cerca di arrivare dando grandi strette di mano agli amici gli uni non credono mai ai meriti altrui si reputano singolarissimi come se il mondo fosse nato ieri hanno una fiducia illimitata in se stessi e non hanno un nemico peggiore della propria persona gli altri armati di una salutare sfiducia negli uomini sono abbastanza fini per pensarne sempre una più dei propri amici e la sera la testa sul cuscino pesano gli uomini come l'avaro pesa il suo oro mentre gli uni soffendono per nulla salvo poi lasciarsi prendere bellamente in giro da chi conosce il loro lato debole l'amor proprio gli altri si fanno rispettare e sanno scegliersi vittime e protettori e un bel giorno chi non aveva nulla possiede qualcosa chi possedeva qualcosa si trova all'asciutto questi ultimi se taccano di intriganti i loro amici arrivati li considerano però uomini forti è molto forte ecco l'elogio più comune per chi arriva qui buscunque vis in politica in amore negli affari fra essi ve ne sono alcuni carichi di debiti in partenza e questi sono assai più pericolosi di coloro che non hanno un soldo un giovanotto che si proclamava amico di henri de marseille era uno stordito venuto di provincia i cui tipi alla moda stavano insegnando l'arte di intaccare elegantemente un patrimonio egli passato di colpo dai cento franchi al mese al godimento dell'intera sostanza paterna se non era abbastanza sagace per accorgersi che ci si prendeva gioco di lui aveva però abbastanza buon senso per fermarsi al terzo del capitale era venuto a Parigi per farsi una competenza infinimenti per cavalli per imparare a non rispettare troppo i propri guanti per apprendere a parlare dei suoi cavalli e del suo cane dei pirenei per riconoscere una donna al passo e agli stivaletti per studiare le cartè tenersi a mente qualche frase alla moda e conquistarsi l'autorità necessaria per importare più tardi in provincia il gusto per il tè e l'arzenteria all'inglese per conquistarsi il diritto di disprezzare tutto e tutti sino alla fine dei suoi giorni De Marseille l'aveva preso a proteggere per servirsene poi in società come un'audace finanziere si serve d'un commesso di fiducia falsa o sincera che fosse l'amicizia di De Marseille rappresentava non poco per Paul de Manerville che cercava di trarne a sua volta tutto il partito possibile egli viveva letteralmente all'ombra del suo amico si metteva sotto il suo ombrello ricalcava le sue orme si dorava ai suoi raggi quando sedeva vicino a Henry o camminava al suo fianco aveva l'aria di dire non provatevi a insultarci perché siamo due vere tigri o si permetteva di dire fatualmente qualsiasi cosa gli chieda Henry si farebbe in quattro naturalmente si guardava bene dal chiedere dei favori a De Marseille che temeva e la sua paura per quanto impercettibile si comunicava agli altri a tutto vantaggio del suo presunto amico è un uomo in gamba De Marseille andava ripetendo arriverà dove vuole vedrete non mi meraviglierei che divenisse ministro degli esteri nessuno gli resiste oppure l'altro giorno eravamo a caccia De Marseille e io egli non voleva credere ebbene ho saltato una siepe senza scompormi minimamente così Paul de Manerville non può essere classificato che nella grande illustre e potente famiglia degli arrivisti ingenui sarebbe certo divenuto deputato ma per ora non era neppure un giovanotto in gamba il suo amico De Marseille lo definiva così vi domandate chi sia Paul ma Paul è Paul de Manerville mi stupisce disse egli a De Marseille di trovarti di domenica da queste parti stavo per dirti la stessa cosa un'avventura un'avventura io posso parlare senza paura di compromettere nel resto che valore mondano può avere una donna che viene alle tuyeri la domenica taci o non ti dico più nulla ridi troppo potrebbero pensare che abbiamo gavazzato dove discorso passeggiavo senza pensieri da queste parti verso la terrazza dei foglianti quando giunto alla cancellata di qui Castiglione mi sono incontrato faccia a faccia con una donna o meglio con una giovanetta che se non m'è saltata con le braccia al collo credo sia stato meno per rispetto umano che per uno di quei profondi stupori che troncano gambe e braccia scendono lungo la spina dorsale e non s'arrestano che alla pianta dei piedi come per inchiodarti al suolo ho scrutato spesso questa specie di magnetismo animale ma ora non si trattava affatto di una donna volgare tutta la sua persona sembrava dire ecco l'oggetto dei miei pensieri e dei miei sogni l'idolo della sera del mattino com'è che ti ho trovato proprio questa mattina e non ieri prendimi sono tua bene feci tra me eccone ancora una guardiamola un po' fisicamente mio caro è la più adorabile la più femminile persona che io abbia mai incontrato una di quelle donne che i romani chiamavano fulva flava donna di fuoco ma ciò che più mi ha colpito sono stati gli occhi gialli come quelli delle tigri un giallo d'oro che brilla pensa vive ama e vuole ad ogni costo entrare nel vostro borsellino ma se non conosciamo altro esclamò paul essa viene in questi parazzi e noi la chiamiamo la fanciulla dagli occhi d'oro avrà circa ventidue anni e l'ho veduta qui quando c'erano i borboni ma accompagnata da una donna che vale cento volte più di lei taci paul com'è possibile non dico sorpassare ma uguagliare questa fanciulla essa è una gatta che vuol strisciarsi alle tue gambe è tutta bianca i capelli cenerini e l'apparenza delicata ma sulla terza falange delle dita deve avere come dei fili di cotone e lungo le guance una peluria bianca la cui linea luminosa alla luce del giorno comincia sotto le orecchie e si perde nel collo ma l'altra caro de marseille essa ha gli occhi neri che bruciano e non devono aver mai pianto e le sopracciglia che unendosi le danno un'aria di durezza subito smentita dall'arco dolcissimo delle labbra labbra sulle quali un bacio non si può opposare labbra fresche e ardenti un colorito arabo che scalda come un sole una parola d'onore essa t'assomiglia vuoi adularla una vita falcata snella da corvetta corsara che si slancia sul mercantile e lo assale e lo affonda e con slancio francese in pochi minuti che mi importa infine di quella che non ho mai veduto riprese de marseille ma la mia sconosciuta è la sola donna il cui senno vergine e le cui forme ardenti e voluttuose abbiano incarnato il tipo di donna da me lungamente sognato è l'originale di quella delirante donna chiaccarezza una chimera la più calda infernale pittura del genio antico una santa poesia prostituta dai copisti e dai mosaicisti i borghesi non vedono in essa che un soggetto per cammei da appendere con altri ciondoli al mazzo di chiavi mentre essa è un abisso di volutà senza fine una di quelle donne che si incontrano qualche volta in Italia e in Spagna quasi mai in Francia era vista una fanciulla dagli occhi d'oro una donna chiaccarezza la chimera proprio da queste parti venerdì sentivo che domani sarebbe tornata e non mi sono ingannato mi sono preso il gusto di seguirla senza che essa se ne accorgesse e di studiare la sua andatura indolente di donna sfaccendata piena di segrete volutà ebbene essa si è voltata indietro mi ha veduto e come la prima volta è trasalita era brevidito mi ha adorato ho notato allora quella sorta di governante spagnola che l'accompagna quella iena vestita quel demonio messo a guardia della più soave delle creature sabato non c'era nessuno ed eccomi qua ad attendere la donna della chimera e t'assicuro che non domando di meglio che fare la parte della chimera eccola fece Paul improvvisamente tutti si volgono a mirarla alla vista di Henry la sconosciuta arrossì e chiusi in istante gli occhi passò oltre vuoi proprio dire che ti ha notato esclamò allegramente Paul de Manerville la governante fissò attentamente i due giovani quando si incontrarono di nuovo la sconosciuta sfiorò Henry e gli strinse fuggevolmente la mano poi mentre la governante la trascinava verso lui Castiglione essa si volse ancora una volta sorridendo i due amici la seguirono ammirando la magnifica torsione del collo cui la testa era attaccata per linee piene di forza su cui si alzavano piccoli rotoli di capelli la fanciulla aveva piedi ben fatti sottili e curvi tali da ingolosire il più raffinato degli intenditori era naturalmente ben calzata e portava una sottana piuttosto corta e la si volgeva di tanto in tanto seguendo di malavoglia la vecchia di cui sembrava essere a un tempo schiava e padrona e che avrebbe potuto forse picchiare a sangue ma non licenziare arrivata alla cancellata la fanciulla salì su di una carrozza ornata di stemma gentilizio e sedutasi senza troppo curarsi della gente agitò il fazzoletto verso Henry come per dirgli seguitemi hai mai visto nulla di più grazioso chiese Henry a Paul e scorto un fiacro vuoto lo chiamò e disse al vetturale seguite quella vettura addio Paul il fiacro si mosse ed Henry poteva vedere l'appariglia della fanciulla entrare in uno dei più bei palazzi di Rue Saint-Lazaire e Marsy non era uno sciocco e se qualsiasi altro giovanotto si sarebbe subito preso il gusto di assumere le più minute informazioni su quella fanciulla che così stupendamente sembrava incarnare la donna cantata dalla poesia orientale egli preferì farsi riportare immediatamente a casa la mattina dopo il suo cameriere tipo di sganarello da commedia all'ora della distribuzione della posta ronzava travestito dal Verniese intorno alla casa della sconosciuta quando passò il postino si rivolse a lui fingendo di dover portare un pacchetto a una persona della quale non ricordava il nome così venne a sapere che il palazzo era di proprietà di Don Jillos marchese di San Real grande di Spagna naturalmente era la marchesa che il finto al Verniese doveva presentarsi ma è assente disse il postino e le sue lettere vengono rispedite a Londra ma la marchesa non è una ragazza ah ho capito fece il postino interrompendo il cameriere e fissandolo con attenzione tu sei un commissionario come io sono un ballerino Laurent aveva di tasca alcune monete e le mostrò al postino e col più amabile dei sorrisi gli allungò una lettera che portava il timbro di Londra e sulla quale l'indirizzo Paquita Valdez Palazzo San Real Rue Saint-Lotard Parigi era scritto in lettere minute e allungate evidentemente femminili che ne direste di una dozzina d'ostriche e d'una bistecca con i funghi accompagnata da una buona bottiglia di Chablis alle nove e mezza alle nove e mezza finito il servizio dove all'angolo di Rue Chassadantin con Rue Neuf de Maturin ascoltate caro amico diceva un'ora dopo il postino al cameriere se il vostro padrone è innamorato di questa ragazza ditegli pure che perde il suo tempo ho i miei bravi dubbi che voi riusciate a vederla faccio il postino a Parigi ormai da dieci anni e di porte ne ho vedute ma una misteriosa come quella del signor Saint-Réal mai nessuno può entrare senza la parola d'ordine e il cerbero è un vecchio spagnolo che non sa una parola di francese ma la gente lo conosce bene e se anche riusciste a scavalcare questo aguzzino vi trovereste di fronte nella prima sala un maggiordomo circondato dalla che vecchio pazzo ancor più intrattabile selvatico che lo spagnolo è capitato a me puro e semplice postino d'essere interrogato da lui come un delinquente quanto agli altri di casa nessuno del quartiere ha mai sentito la loro voce non so quanto prendono per non parlare e non bere certo sono inaccessibili se il vostro padrone se il vostro padrone ama a tal punto pacchita valdes da superare tutti questi ostacoli non credo riuscirà mai a trionfare su donna concia marialva che la nasconderebbe sotto la veste piuttosto che lasciarla un istante quelle due donne sembrano cucite insieme ciò che mi dite credo signor postino ripresa loren dopo aver centellinato il suo vino mi conferma ciò che m'era stato raccontato e pensare che credevo si prendessero gioco di me la fruttivendola va detto che la notte sciolgono dei cagnacci e piantano della carne in cima dei pali cui essi non arrivano se qualcuno s'avvicina ai cani credendo che voglia derubarli poco che gli fazzano lo sbranano me l'ha detto anche il portiere del barone di Nussingen che ha il giardino contiguo a quello di San Real riprese il postino bene il mio padrone lo conosce pensò loren e sbirciando il postino riprese sapete che il mio padrone è un tipo da baciare il piede di un'imperatrice se vuole potrà contare su voi all'occorrenza ve lo auguro di cuore perché conosco bene la sua generosità perbacco signor loren io mi chiamo mono moano e abito al numero undici di ride trois frères ho moglie e quattro figli se ciò che volete da me non eccede la possibilità di un'onesta coscienza e non va contro i miei doveri amministrativi potete contare su di me siete un bravo uomo gli disse loren stringendogli la mano paquita valdez è senza alcun dubbio l'amante del marchese de san real l'amico di re ferdinando solo un vecchio cadavere spagnolo sugli ottant'anni è capace di simili precauzioni disse henry quando il cameriere gli ebbe fatto il resoconto delle sue ricerche signore disse loren eccetto che arrivarvi in pallone non c'è verso di entrare là dentro sei una bella testa ma che bisogno c'è di entrare se lei può uscire ma signore è la governante si rinchiude per qualche giorno allora avremo paquita disse loren fregandosi le mani buffone fece henry ti condanno a prenderti donna concia se osi parlare così d'una donna prima che io l'abbia veduta vestimi piuttosto che voglio uscire henry rimase per qualche istante immerso in piacevoli riflessioni bisogna dire in lode delle donne che gli aveva tutte quelle che desiderava che dovremmo d'altronde pensare di una donna che non avendo amante resistesse a un giovane dotato di bellezza spirito del corpo e grazia dell'anima e di quelle due forze che sono fortuna e audacia morale ma era naturale che tanta felicità dovesse finire per stancarlo così da più di due anni egli s'annoiava e desiderava come i sovrani qualche ostacolo da superare qualche impresa che richiedesse l'impiego delle sue forze morali e fisiche da tanto tempo inattive e sebbene Pachita Valdez presentasse riunita insieme tante perfezioni pure la passione era quasi nulla in lui la continua sazietà aveva indebolito il suo potere d'amare come i vecchi e gli scettici non aveva più che capricci stravaganti e rovinosi voglie che soddisfatte lasciano con la bocca amara nei giovani l'amore è più bello dei sentimenti esso fa fiorire la vita dell'anima schiude con la sua potenza solare meravigliosi pensieri e le primizie hanno sempre un così delizioso sapore negli uomini fatti l'amore si fa passione è la forza che porta all'abuso nei vecchi degenera in vizio è l'impotenza che conduce a questi estremi harry era vecchio maturo e giovane insieme per fargli provare veramente l'amore e ci voleva come già loveless una clarissarlov sotto il magico riflesso di questa perla introvabile non potevano più esserci che passioni acuite da qualche vanità parigina puntigliosi desideri di trascinare questa o quella nel fango avventure che ne stimolassero la curiosità il rapporto di loran aveva dato alla fanciulla dagli occhi d'oro un valore enorme si trattava di scendere in campo contro un nemico sconosciuto tanto pericoloso quanto abile e per riportare vittoria harry doveva mobilitare tutte le sue forze egli doveva recitare ancora una volta la vecchia ma sempre nuova commedia i cui personaggi sono un vecchio una ragazza e un giovanotto in questo caso don chios paquita e de marseille ma se la lorenva neva figaro la governante si mostrava incorruttibile bisogna combattere duro si disse henry ebbene gli disse paul de manerville entrando a che punto siamo vengo a colazione con te accettato non ti dispiace che faccia toletta davanti a te figurati stiamo copiando gli inglesi in tante cose che finiremo per diventare ipocriti e puritani come loro loren aveva posato davanti al suo padrone un così gran numero d'aggeggi mobiletti eccetera che paul non si trattenne dal dire ma ne avrai per due ore vorrà dire due ore e mezzo disse henry ebbene che siamo soli e ci possiamo dire quanto vogliamo potresti spiegarmi perché un uomo superiore come te e non c'è dubbio che tu sia un uomo superiore debba ostentare una fatuità che non può essere naturale perché passare due ore e mezzo a tirarsi a lucido quando basta poco più di un quarto d'ora per entrare in bagno pettinarsi e vestirsi spiegami il tuo metodo debbo volerti molto bene per confidarti cose così profonde caro il mio balordo disse il giovanotto che stava facendosi stropicciare i piedi con una spazzola tenerissima schiumante di sapone inglese ma io ti sono sinceramente affezionato rispose paul de manerville e tanto più ti amo quanto più ti stimo superiore a me avrai notato se sei in grado di osservare i fattori morali che le donne amano gli uomini valesi e sai perché li amano perché essi sono i soli uomini che abbiano cura di sé e aver troppo pensiero di sé non significa in fondo curare in sé il bene degli altri ed è proprio dell'uomo che non è libero e indipendente che le donne vanno matte l'amore è ladro non ti parlo di quella ricercatezza che esse adorano ma trovane una che abbia fatto una passione per uno sciattone fosse pure per altri versi notevolissimo forse qualche donna incinta nel periodo delle voglie al contrario ho veduto uomini in gamba piantati per la loro trascuratezza un vanesio occupandosi della propria persona s'occupa di una cosa da nulla e cos'è una donna una cosa da nulla un insieme di cose da nulla essa è sicura che il vanesio non avendo nulla a cui pensare s'occuperà di lei e solo di lei che non sarà mai trascurata per la gloria l'ambizione la politica l'arte e neppure per le grandi cortigiane e i vanesi hanno il coraggio di coprirsi di ridicolo per amore cosa che le donne apprezzano moltissimo il vanesio è il colonnello dell'amore e ha il suo reggimento di donne da comandare a Parigi mio caro tutto viene risaputo e non credere che un uomo possa passarvi per vanesio gratuitamente se tu che hai una sola donna e forse fai benissimo cercassi di fare il vanesio credi che vi riusciresti non diverresti neppure ridicolo saresti un uomo morto saresti un preconcetto con due zampe uno di quegli uomini condannati a fare eternamente una sola cosa significheresti stupidità come la faiette significa america tyerand diplomazia desogè canzone segure romanza tu sai che basta che essi escano dal loro genere perché non gli si faccia più credito così è la Francia e forse tyerand è un grande finanziere la faiette un tiranno desogè un perfetto funzionario così tu potresti avere un altr'anno quaranta donne ma pubblicamente non te ne riconoscerebbero una dico una la fatuità mio caro amico è indizio di un incontestabile dominio ottenuto sul volgo femminile un uomo amato da molte donne passa per avere delle qualità eccezionali e allora sotto povero disgraziato ma la crede una soddisfazione da poco quella di poter guardare tutti dall'alto della propria cravatta disprezzando chiunque anche l'uomo più intelligente per il solo fatto che ha il panciotto giù di moda ah Laurent mi fai male dopo pranzo andremmo alle tuyeri a mirare l'adorabile fanciulla dagli occhi d'oro dopo aver consumato un eccellente pranzetto i due amici fecero a gran passi la terrazza dei foglianti e il viale delle tuyeri ma della sublime Pachita Valdez per cui una cinquantina dei più eleganti giovanotti di Parigi muschiati incravattati stivalati e speronati sembravano essersi dati convegno nessuna traccia messa bianca disse Henry ma a me è venuta un'eccellente idea la ragazza riceve posta da Londra basterà corrompere e ubriacare il postino poi aprire una sua lettera leggerla farvi scivolare un biglietto e richiuderla il vecchione crudel tiranno riconosce senza dubbio la persona che scrive da Londra e non ne diffida la mattina dopo Henry tornò a passeggiare al sole sulla terrazza dei foglianti e vi rivide Pachita Valdez resa più bella per lui dalla passione quegli occhi i cui raggi simili a quelli del sole sembravano rinchiudere in sé tutto l'ardore di un corpo voluttuoso l'avevano letteralmente stregato De Marseille bruciava dal desiderio di sfiorare le vesti della fanciulla ma i suoi tentativi furono tutti vani e in un momento in cui aveva sorpassato la governante e Pachita per potersi trovare al ritorno dalla parte della fanciulla dagli occhi d'oro Pachita non meno impaziente avanzò prontamente ed De Marseille si sentì serrare la mano con tanta passione che gli parve d'aver sentito una scossa elettrica e in un istante tutte le emozioni della giovinezza gli rifluirono al cuore quando si guardarono Pachita parve vergognosa e abbassò gli occhi per non rivedere quelli di Henry ma il suo sguardo scese a osservare i piedi e la figura di quell'uomo che le donne prima della rivoluzione chiamavano il vincitore questa donna sarà mia disse fra sé Henry la seguì sino all'estremità della terrazza dalla parte di Place Lueckens e poté vedere così il vecchio marchese di Saint-Réal che passeggiava appoggiato al braccio del suo cameriere con le infinite precauzioni del grottesco e del cacchettico donna concia che non si fidava di Henry fece passare Pachita fra lei e il vecchio quanto a te mormorò Henry fra sé gettando uno sguardo sprezzante sulla governante se non vorrai capitolare con un po' doppio ti calmerai conosciamo abbastanza la mitologia e specialmente la favola di Argo prima di salire in vettura la fanciulla dagli occhi d'oro lanciò al giovane alcuni sguardi di non dubbio significato che riempirono Henry di felicità ma la governante se ne dovette accorgere perché apostrofò vivacemente Pachita che si gettò nella carrozza con aria disperata e per alcuni giorni Pachita non fu vista alle tuierì Loren che per ordine del padrone era stato alla posta presso il vecchio palazzo seppe dai vicini che né le due donne né il vecchio erano più usciti dal giorno che la governante aveva sorpreso quegli sguardi il purdebole filo che legava i due amanti era dunque spezzato alcuni giorni dopo senza che nessuno sapesse in qual modo avesse fatto de Marseille era in possesso di un sigillo e di una ceralacca che servivano per chiudere le lettere inviate da Londra mademoiselle Valdez della carta uguale a quella di cui si serviva il corrispondente e in più di tutto quanto poteva servire per apporre bolli postali inglesi e francesi egli poi aveva scritto dandole tutta l'apparenza di una missiva inviata da Londra la lettera che segue cara Paquita non tenterò neppure di dipingervi a parole la passione che avete acceso in me ho trovato il modo di comunicare per lettera con voi mi chiamo Adolfa de Gouget e abito Henri dell'Université numero 54 e indovinerò dal vostro silenzio se siete troppo sorvegliata o non avete né penna né carta per scrivermi se domani dalle otto del mattino alle 10 di sera non avrete gettato dal vostro giardino in quello del barone di Nussingen quella lettera che aspetto un uomo che mi è del tutto devoto vi farà pervenire per mezzo di una corda al di sopra del muro due bottigliette l'una conterrà oppio per addormentare il vostro argo l'altra inchiostro e quest'ultima ricordate è sfaccettata sono abbastanza piatte perché possiate nasconderle nel vostro busto tutto quanto ho già fatto per poter comunicare con voi vi dice quanto io vi ami ma se avete ancora qualche dubbio sappiate che darei la vita per un convegno di un'ora eppure ci credono povere creature disse fra sé de marse ma forse hanno ragione che pensare di una donna che non si lasciasse prendere da una lettera d'amore accompagnata da argomenti così persuasivi la lettera fu consegnata a De Moinot il portalettere l'indomani mattina sulle otto al portinaio del palazzo San Real per avvicinarsi al campo di battaglia de marseille era andato a colazione da Paul in rue della pepinerie verso le due mentre i due amici si raccontavano ridendo il fiasco di un giovane che aveva voluto condurre senza avere la possibilità una vita da signore il cocchiere di Henry venne a cercare il suo padrone per presentargli un personaggio misterioso che voleva parlargli si trattava di un mulatto che avrebbe certamente ispirato Talma per Otello se mai si fossero incontrati mai faccia africana espresse meglio la grandezza nella vendetta la rapidità nel sospetto la prontezza nell'esecuzione la forza unita alla fanciullesca riflessione i suoi occhi neri avevano la fissità degli occhi di un uccello da preda ed erano incassati come quelli di un avvoltoio entro una membrana azzurrastra priva di ciglia la sua fronte piccola e bassa incuteva timore quell'uomo doveva essere ossessionato da un'idea fissa l'accompagnava a un uomo che qualsiasi immaginazione da quelle gelide della Groenlandia a quelle torride della nuova Inghilterra potrà figurarsi a queste poche parole un disgraziato tutti potranno rappresentarlo come meglio vorranno secondo le idee particolari al proprio paese ma chi si figurerà la sua faccia bianca e grinzosa come macchiata di rosso all'estremità la sua barba lunga la sua cravatta giallastra ridotta a una specie di corda il suo colletto unto il suo cappello logoro la sua marsina verdastra i suoi miserabili calzoni la sua spilla d'oro falso il suo panciotto gualcito le sue scarpe infangate dalle stringa trascinate nella mota da chissà quanto tempo chi potrà comprenderlo nell'immensa sua disgrazia presente e passata il parigino nessun altro che il parigino il disgraziato di Parigi è il disgraziato perfetto che prova una certa gioia a sentirsi tanto tanto sfortunato quanto al mulatto pareva un carnefice di Luigi undicesimo che scortasse un uomo da impiccare che ha pescato questi due tipi chiese Henry perbacco ce n'è uno che mi dà i brividi rispose Paul chi sei tu che hai un po' più l'aria da cristiano disse Henry rivolgendosi al tipo dall'aria disgraziata il mulatto rimase con gli occhi fissi sui due giovani con l'aria di uno che non capisce nulla ma cerca non di meno di indovinare qualcosa dai gesti e dal moto delle labbra sono scrivano pubblico e interprete abito al palazzo di giustizia e mi chiamo Poinset bene e questo disse Henry a Poinset indicando il mulatto non so non parla che una specie di dialetto spagnolo e mi ha condotto qui per intendersi con voi il mulatto si tolse di tasca la lettera che Henry aveva scritto a Pachita e gliela porse Henry la gettò nel fuoco cominciamo a vederci chiaro disse Henry Paul lasciaci soli un istante gli ho tradotto questa lettera riprese le interprete quando furono soli allora si è recato non so dove e quando è tornato mi ha pregato di condurlo qui promettendomi due Luigi ebbene cinese che hai da dirmi chiese Henry io non l'ho chiamato cinese disse l'interprete aspettando la risposta del mulatto e poiché il mulatto ebbe parlato disse dice di trovarsi domani sera alle dieci e mezzo sul bourgeois Montmartre presso il caffè là troverete una vettura sulla quale salirete dicendo a colui che vi aprirà la portiera la parola cortejo che in spagnolo vuol dire amante e qui gettò a Henry un furbesco sguardo di intesa bene il mulatto volle dare all'amico i due Luigi promessi ma de Marseille non glielo permise ricompensò di sua tasca l'interprete mentre stava pagando il mulatto borbottò qualche parola che dice oh nulla rispose l'uomo dall'aria miserella mi ha prevenuto dicendomi che se farò anche la più piccola indiscrezione mi strangolerà è un tipo da fare quello che dice ne sono più che sicuro disse Henry ha aggiunto riprese l'interprete che la persona che vi ha invitato qui vi supplica per amersù e vostro d'usare la più grande prudenza perché i pugnali alzati sulle vostre teste si pianterebbero nei vostri cuori e nessuna cosa al mondo potrebbe salvarvi ha detto proprio così tanto meglio ci sarà da divertirsi e dopo una pausa puoi entrare Paul il mulatto che non aveva tolto gli occhi da Henry un solo istante se ne andò seguito dall'interprete eccomi imbarcato in un'avventura molto romantica disse fra sé Henry quando Paul tornò ed ecco un intrigo pericoloso sul sedio diavolo come il pericolo rende ardite le donne annoiare una donna comprimerla non è darle il diritto e il coraggio di saltare in un momento delle barriere che essa non supererebbe in un anno salta gracile creatura morire pugnali fantasie donnesche e sentono tutte il bisogno di usare questi trucchetti del resto c'è tempo per pensarci pachita mia il diavolo mi porti se ora che questo capolavoro di ragazza è mia l'avventura non è diventata insipida adonta di tutte queste vane leggere parole la giovinezza aveva ripreso in pieno i suoi diritti e per far venire l'indomani henri dovette darsi ai piaceri più sregolati pranzò con gli amici mangiò come un tedesco beve come un otre e vinse dieci o dodici mila franchi al gioco uscito dal rocher de cancal alle due del mattino dormì come un bambino si svegliò il giorno dopo fresco erosio e si vestì per andare alle tuierì con il proposito di andare a cavallo per farsi venire appetito allora convenuta henry si trovò sul boulevard e vista la vettura diede la parola d'ordine a un uomo che gli parve il mulatto e che gli aprì la portiera senza esitare henry fu così portato velocemente attraverso parigi e i suoi pensieri gli lasciarono un così poco tempo per prestare attenzione alle strade che attraversava che gli non riconobbe il luogo in cui la vettura lo depose il mulatto lo fece entrare in una casa la cui scala era situata presso la porta delle carrozze la scala era oscura come il pianerottolo sul quale henry dovette attendere mentre il mulatto apriva la porta e l'appartamento si rivelò umido nauseabondo privo di luce una fuga di stanze appena rischiarate dalla candela che il mulatto trovò in anticamera e che sembravano vuote o mal mobiliate come sono le stanze degli appartamenti i cui padroni sono in viaggio mi parve di provare sensazioni non nuove in tutto simili a quelle che gli procurava la lettura ad uno di quei romanzi di Anne Radcliffe in cui l'eroe passa per sale fredde oscure e disabitate e luoghi squallidi e deserti infine il mulatto aperse la porta di una sala vecchi mobili e tappezzerie decrepite le davano tutta l'aria di un luogo malfamato la stessa pretesa d'eleganza la stessa cozzaglia di cattivo gusto di polvere e di un tume sedutassi un divano ricoperto di velluto rosso di utrecht nell'angolo di un camino che faceva fumo e il cui fuoco era sepolto sotto la cenere stava una vecchia in cattivo ornese col capo coperto da uno di quei turbanti che sanno inventare le donne inglesi quando arrivano a una certa età e che piacerebbero tanto ai cinesi che pongono nel mostruoso l'ideale del bello artistico salotto vecchia fuoco semispento avrebbero agghiacciato l'amore più ardente ma Pachita era là buttata su un piccolo canapè ravvolta in una volutuosa vestaglia libera di lanciare occhiate d'oro e di fiamma di mostrare il suo piccolo piede di curvo libera in tutti i suoi luminosi movimenti questo primo convegno fu come son sempre i primi incontri di persone appassionate che hanno rapidamente superato tutte le distanze e che si desiderano ardentemente senza neppure conoscersi è impossibile che non nasca qualche disaccordo in questa situazione così imbarazzante fino al momento in cui le due anime non abbian raggiunto lo stesso tono se il desiderio rende l'uomo audace e disposto a tutto la donna per quanto ardente sia il suo amore è come spaventata di trovarsi così presto di fronte alla necessità di donarsi il che equivale per molte donne a un salto nel vuoto in fondo a un abisso nel quale non sanno che cosa le attenda l'involontaria freddezza di quelle donne è in contrasto stridente con la passione che se confessano e finisce per agire anche sull'uomo perdutamente innamorato queste idee onveggiano spesso a guisa di vapori intorno alle anime provocandovi una sorta di passeggera infermità questo periodo rappresenta nel dolcissimo viaggio che i due esseri intraprendono per le belle contrade d'amore una landa brulla e deserta ora umida ora calda piena di sabbie ardenti e interrotta da paludi che porta aridenti boschetti di rose e tappeti di erbetta fina propizia all'amore e al suo corteggio di volutà e spesso l'uomo di spirito crede di poter rispondere a tutto con uno stupido sorriso quasi del tutto intorpidito sotto la glaciale compressione delle sue voglie non è impossibile che due esseri ugualmente belli e appassionati avendo parlato per un po' delle cose più insignificanti e banali vengono quasi per caso da una parola o da uno sguardo condotti a quel felice stato a quel sentiero fiorito per il quale non si cammina ma addirittura si rotola e questo stato d'animo è sempre proporzionale alla violenza dei sentimenti chi ama poco non prova nulla di simile l'effetto di questa crisi può essere paragonato a quello che produce l'ardore di un cielo puro che per coprire la natura ad un velo fa nero l'azzurro la grande luce è simile alle tenebre un'uguale violenza possedevano Henry e la spagnola e forse è vera anche nel campo morale quella legge di statica per cui due forze uguali incontrandosi s'annullano ad accrescere l'imbarazzo non mancava più che la vecchia mummia l'amore si spaventa e si rallegra di tutto tutto per lui ha un senso tutto è presagio di felicità o di sciagura la vecchissima donna sembrava rappresentare l'orribile coda di pesce con cui i geni greci solevano far finire sirene e chimere seducenti e fallaci come son tutte le passioni all'inizio quantunque Henry fosse non uno spirito forte che questa frase è diventata una mezza canzonatura ma addirittura un uomo di straordinaria potenza grande quanto può essere grande un uomo senza fede pure insieme delle circostanze non mancò di colpirlo i uomini più forti del resto sono i più impressionabili e di conseguenza i più superstiziosi se si può chiamare superstizione il pregiudizio del primo movimento che senza dubbio viene ad essi dalla conoscenza di fatti ignoti agli altri la spagnola e approfittando di questo momento di stupore si lasciò andare all'estasi di quella infinita adorazione che prende il cuore della donna velocemente innamorata in presenza dell'idolo tanto vanamente desiato i suoi occhi pieni di gioia e di felicità sprigionavano scintille ed essa come ammaliata si lasciava andare senza alcun timore all'ebbrezza di una felicità lungamente sognata parve parve allora sì meravigliosamente bella ad henry che tutta quella fantasmagoria di stracci di vecchiume di tappezzerie rosse e logore di paglierici verdi e persino quel pavimento mal lucidato quel lusso enfermo e doloroso scomparvero come per incanto il salotto parve illuminarsi ed egli non vide più che confusamente in una specie di nube la terribile arpia muta ed immobile sul suo canapè rosso con gli occhi gialli pieni di quell'abietto sentimento servile che disgrazia e vizio producono in chi è caduto in loro schiavitù i suoi occhi avevano il freddo splendore di quelli d'una tigre conscia della propria impotenza e obbligata a divorare le sue smanie di distruzione chi è questa donna domandò henry a paquita paquita non rispose fece segno che non comprendeva il francese e chiese henry se conosceva l'inglese e marseille ripete la domanda in inglese è la sola donna al mondo fece tranquillamente paquita di cui mi possa fidare eppure essa mi ha venduto è mia madre mio caro una schiava della georgia acquistata per la sua rara beltà beltà di cui come vedi rimane ben poco essa non parla che la sua lingua materna l'atteggiamento della donna la sua smania di scoprire quanto avveniva fra i due giovani divennero finalmente chiari agli occhi di henry paquita e gli disse non saremo mai liberi mai disse ella tristemente e abbiamo pochi giorni per noi essa abbassò gli occhi e contò con la destra sulle dita della sinistra mostrando così le più belle mani che henry avesse mai riveduto uno due tre contò sino a dodici sì disse abbiamo dodici giorni e dopo dopo disse ella assorta come fragile donna davanti alla scure del boia inanimata per il timore che la spogliava di quella magnifica energia che la natura sembrava averle dispensato unicamente per accrescere la volutà e convertire in poemi senza fine i più grossolani piaceri dopo riprese essa i suoi occhi divennero fissi e parvero contemplare un oggetto lontano e minaccioso non so questa ragazza è un po' folle pensò henry gli parve che pachita fosse preoccupata da qualcosa di estraneo e che rimorso e passione insieme la tormentassero forse aveva nel cuore un altro amore che volta a volta dimenticava ricordava henry venne improvvisamente assalito da mille pensieri contradditori la ragazza era per lui un mistero ma contemplandola con la sapiente attenzione dell'uomo annoiato e sempre in cerca di voluta nuove henry vedeva impachita il più potente strumento d'amore che mai natura avesse creato il funzionamento di questa macchina anima a parte avrebbe spaventato qualunque altro uomo che non fosse stato dei marsei ma egli fu affascinato dalla ricca messa di piaceri promessa e dalla perenne varietà nella felicità sogno supremo d'ogni donna e uomo che ami fu letteralmente stregato dall'infinito reso quasi palpabile nel godimento sregolato della creatura e vide questo assai meglio di prima poiché essa ora si lasciava guardare e ammirare felice ma la sua ammirazione finì per tramutarsi in segreta rabbia rabbia che egli svelò interamente lanciando alla spagnola uno sguardo che essa mostrò di intendere appieno come se non fosse stata la prima volta che ne riceveva se tu non sarai mia solamente mia ti ucciderò a queste parole paquita si portò le mani al viso e gridò ingenuamente santa vergine dove mi sono cacciata salzò si andò a buttare sul canapè rosso e nascosto il viso fra gli stracci che coprivano il petto della madre scoppiò a piangere la vecchia raccolse la figlia senza uscire dalla sua immobilità senza commuoversi minimamente ella possedeva al più alto grado quella gravità e impassibilità dei selvaggi che disarma anche l'osservatore più acuto amava la figlia o non l'amava impossibile rispondere tutti gli umani sentimenti buoni e cattivi covavano sotto quella maschera e c'era da aspettarsi di tutto d'essa il suo sguardo vagava dai bei capelli che coprivano paquita come una mantiglia alla persona d'enri che sa considerava con inesprimibile curiosità e sembrava chiedersi per qual sortilegio per qual capriccio la natura avesse creato un uomo così seducente queste donne si prendono un gioco di me pensò henry paquita allevò il capo e gli lanciò uno sguardo bruciante che gli andò sino in fondo al cuore e se gli parve così bella che si giurò di possederla paquita sei mia vuoi uccidermi fece ella paurosa inquieta palpitando tutta attratta verso di lui da una forza inspiegabile ucciderti io disse egli sorridendo paquita gettò un grido e disse qualcosa alla vecchia che prese con forza la mano di henry e quella della figlia e dopo averli guardati a lungo li lasciò andare scuotendo la testa in modo orribilmente significativo devi essere mia questa sera subito e non mi devi lasciare più se mi ami paquita e in pochi istanti ne morborò mille parole insensate con la rapidità di un torrente che rovina fra le rocce ripetendo lo stesso suono in innumerevoli variazioni la stessa voce disse melanconicamente paquita senza che de marse potesse udirla lo stesso ardore ebbene sì disse ella con abbandono e passione inesprimibili sì ma non questa sera adolf ho dato troppo poco oppio alla concia e se essa si sveglia sono perduta tutti mi credono a dormire nella mia stanza trovati fra due giorni nello stesso luogo serviti della stessa parola l'uomo sarà sempre cristemio il mio valio egli mi adora e si farebbe ammazzare per me addio e così dicendo si strinse tutta con il corpo di Henry lo serrò su di sé gli pose la testa sul petto gli offerse le labbra e in un bacio che diede tali vertigini a entrambi che a de marse sembrò che la terra si aprisse poi paquita gli gridò vattene con la voce di una donna assai poco sicura di sé e pur gridandogli vattene non si staccava da lui così lentamente lo condusse sino alla scala là il mulatto i cui occhi bianchi s'accesero alla vista di paquita prese il candeliere dalle mani del suo idolo e condusse Henry sino alla carrozza depose il candeliere sotto la volta aperse la portiera fece entrare Henry in carrozza e pochi minuti dopo lo depose sul boulevard des italiens i cavalli sembravano avere l'inferno in corpo tutta questa scena fu per de marse come un sogno ma uno di quei sogni che a loro svanire lasciano nell'anima un senso di volutà più che umana e una brama senza fine e un bacio nient'altro che un bacio era bastato mai con un vegno più decente più casto più freddo forse di quello e in un luogo più orribile davanti a una più spaventevole divinità la madre la madre infatti era rimasta nell'immaginazione di Henry come qualcosa di infernale accovacciato cadaverico vizioso selvaggio e feroce al di là di ogni fantasia di poeta o di pittore nessun convegno in realtà aveva tanto irritato i suoi sensi rivelando ad un tempo più ardite volutà e mai l'amore sprigionatosi dal suo centro sarà diffuso intorno ad un uomo più meravigliosamente a guisa di atmosfera fu una cosa oscura misteriosa dolce e tenera un accoppiamento dell'orribile del celestiale del paradiso dell'inferno che si è to de marseille in una specie di ebbrezza indicibile facendolo uscire di sé eppure de marseille era un uomo forte e grande non tale da cedere agli allettamenti del piacere per ben comprendere la condotta di de marseille allo scioglimento di questa storia va tenuto conto del fatto che la sua anima sarà allargata proprio all'età che i giovani per mescolarsi troppo alle donne e per occuparsi troppo di esse fatalmente miseriscono una serie di circostanze segrete l'aveva investito di un immenso potere nascosto e dotato di uno scettro ben più forte di quello di tanti re moderni e cui leggi limitano anche i minimi desideri di marseille esercitava un'autorità degna di un despota orientale ma questo potere così stupidamente usato in asia da uomini abrutiti era in lui enormemente accresciuto dall'intelligenza europea e da quell'acutissimo strumento di essa che è lo spirito francese henri tutto era possibile nell'ambito della vanità e dei piaceri questo potere invisibile sulla società gli aveva dato una maestà effettiva seppure segreta senza enfasi e come ripiegata su se stessa l'opinione che gli aveva di sé non era quella di un luigi 14 ma piuttosto quella di uno di quei superbissimi califfi o faraoni che credendosi stirpe divina si velano innanzi ai sudditi per non cagionare loro la morte così senza il minimo rimorso per il fatto di essere insieme giudice e parte de marseille condannava a morte chiunque uomo o donna l'avesse seriamente offeso e quantunque spesso pronunciato alla leggera il giudizio era irrequivocabile un errore era nulla più di una disgrazia come quando il fulmine abbattutosi su di un fiac uccide la parigina felice di recarsi a un appuntamento e neppure sfiora il vecchio cocchiere che l'accompagna l'ironia amara e profonda che distingueva la conversazione di questo giovane metteva in chi l'ascoltava una specie di spavento e a nessuno passava per la testa di irritarlo le donne amano alla follia questi uomini che si autoproclamano pascià e sembrano sempre muoversi accompagnati da leoni e carnefici essi posseggono una sicurezza d'azione una fierezza di sguardi una coscienza leonina che son quanto le donne sognano come tipo di forza maschile e tale era De Marseille felice per quanto attendeva gli parve di ringiovanire e addormentandosi non pensò che all'amore non sognò che la fanciulla dagli occhi d'oro furono immagini mostruose bizzarrie inafferrabili piene di luce e della rivelazione incompleta per il velo interposto che modifica le condizioni dell'ottica di mondi invisibili i due giorni seguenti Henri scomparve e nessuno seppe dove si fosse recato quel suo potere non gli apparteneva che a certe condizioni e fortunatamente per lui quei due giorni egli non fu che un semplice soldato agli ordini del demonio cui doveva la sua talismatica esistenza ma giunta allora egli attendeva sul boulevard la carrozza che a dire il vero non si fece aspettare molto avvicinandosi a lui il mulato con tutta l'aria d'averla imparata a memoria gli disse in francese questa frase ella vi farà sapere che se volete venire dovete lasciarvi bendare e detto ciò Cristemio gli mostrò una sciarpa di seta bianca no disse de marseille e fece per salire a un segno del mulato la vettura si mosse sì gridò de marseille furioso all'idea di perdere l'attesa felicità egli vedeva del resto che con uno schiavo la cui obbedienza era cieca come quella d'un boia non restava che capitolare e inoltre come sfogare la propria collera su di un strumento passivo come quello il mulato lo dia un fischio la vettura tornò ed Henry vi si precipitò dentro già alcuni curiosi si affollavano sul boulevard con un'aria stupita Henry che si sentiva forte volle prendersi gioco del mulato e appena la vettura fu partita gli prese le mani con l'intenzione di tenerlo in suo potere e conservare così l'uso delle sue facoltà inutile tentativo gli occhi del mulato scintillarono nell'ombra egli emise degli urli soffocati per il furore e svincolatosi da de marseille lo respinse in fondo alla carrozza e ve lo inchiodò poi con la mano libera estrasse un pugnale triangolare e diede un fisco al cocchiere che si fermò Henry disarmato fu costretto a cedere e tese spontaneamente il capo verso la sciarpa di seta questo gesto calmò Cristemio che usò nel bendare gli occhi di Henry un rispetto e una cura che testimoniavano una sorta di venerazione per la persona dell'uomo amato dal suo idolo questo cinese avrebbe finito per uccidermi si disse fra sé Henry la carrozza rotolò via di nuovo rapidamente Henry che conosceva perfettamente Parigi rimaneva ancora una risorsa raccogliersi e contare col numero dei canaletti attraversati le strade davanti alle quali la vettura doveva passare andando dritta per i boulevard avrebbe potuto riconoscere così per quale strada laterale la vettura si sarebbe diretta verso la Senna o verso Montmartre e indovinare il nome o la posizione della strada ma l'emozione violenta della lotta il furore per la dignità offesa le idee di vendetta le superstizioni sulla condotta della misteriosa fanciulla tutto gli impedì di prestare quell'attenzione da cieco necessaria alla concentrazione dell'intelligenza e alla perfetta perspicacia il tragitto durò circa mezz'ora e quando si fermò la vettura non era già più sul lastrico il mulatto e il cocchiere preso Henry lo posero su una specie di lettiga e lo trasportarono attraverso un giardino che colpiva con il profumo dei fiori e delle piante vi regnava un silenzio così profondo che gli poté distinguere il rumore delle gocce d'acqua che cadevano dalle foglie umide i due uomini lo trasportarono su per una scala e dopo averlo fatto alzare lo condussero tenendolo per mano attraverso alcune stanze per lasciarlo infine in una camera profumatissima dal pavimento ricoperto da uno spesso tappeto una mano di donna lo spinse su un divano e gli tolse la benda dagli occhi Paquita era davanti a lui in tutta la sua gloria di donna voluttuosa la metà del salotto in cui Henry sarà venuto a trovare descriveva una linea circolare molle e piena di grazia in netto contrasto con l'altra parte perfettamente quadrata e ornata nel bel mezzo da un caminetto di marmo bianco e oro egli era entrato da una porta laterale nascosta da una ricca tenda e posta proprio di faccia a una finestra ornava il ferro di cavallo un autentico divano turco vale a dire un materasso posato in terra e largo come un letto di un bel cashmere bianco tutto a trapunto di nappe di seta nera e ponso a losanghe la spalliera dell'enorme divano s'alzava di parecchi pollici al di sopra dei numerosi cuscini che l'abbellivano per tutto il salotto correva una stoffa rossa alla quale era sovrapposta una mussolina indiana scanalata come una colonna corinzia a gole alternativamente concave e convesse e fermata in alto e in basso da una striscia di stoffa rosso papavero freggiata da arabeschi neri sotto la mussolina il rosso impallidiva tendendo a un bel rosa voluttuoso ripetuto dalle tende delle finestre che erano anch'esse d'indiana foderate di taffeta rosa e frangiate di ponsoe nero sei brazzi d'argento dorato sostenuti ciascuno da due candele e infissi alle pareti a uguale distanza illuminavano il divano in mezzo al soffitto decorato tutto intorno da una cornice d'oro pendeva un lampadario d'argento opaco il tappeto simile nel disegno a uno scialle d'oriente ricordava la poesia di quella persia dove in mani di schiavi l'avevano lavorato i mobili erano coperti di cashmere bianco guidavano risalto fra ginieri e ponsoe la pendola e i candelabri erano di marmo bianco e oro e l'unica tavola era coperta da un tappeto di cashmere rose d'ogni specie e altri fiori vermigli e bianchi ornavano le giardiniere tutto insomma rivelava cura e amore e mai forse la ricchezza sarà in più incantevole maniera nascosta e trasformata in eleganza a esprimere grazia a ispirare voluta là tutto avrebbe riscaldato l'uomo più freddo i riflessi della tenda il cui colore cangiava secondo la direzione dello sguardo facendosi ora bianco ora rosa si accordavano mirabilmente con gli effetti della luce che si infondeva nelle diafane pieghe della mussolina e ne traeva apparenze quasi nubilose l'anima prova un attaccamento misterioso per il bianco l'amore si compiace del rosso e l'oro lusinga le passioni ha il potere di dare realtà alle loro fantasie e tutto quanto va nell'uomo di vago e misterioso tutte le sue affinità inespresse si sentivano accarezzate nelle loro simpatie involontarie a questa armonia perfetta a questo concerto di colori l'anima rispondeva con idee indecise e voluttuose fu in un'atmosfera vaporosa e profumatissima che Pachita in vestaglia bianca i piedi nudi e dei fiori d'arancio nei capelli neri apparve a Henry inginocchiata come ad adorarlo neppure abituato alle raffinatezze del lusso parigino e Marseille fu sorpreso dall'aspetto di questa conchiglia simile a quella in cui Venere nacque fosse il contrasto fra le tenebre d'onde era uscito e la luce che bagnava ora la sua anima o il rapido conforto fra questo e quel primo convegno è certo che gli provò una di quelle delicate sensazioni che solo la vera poesia sa dare ma ecco che allo scorgere in mezzo alla sala sorto come per incantesimo quel capolavoro della natura quella fanciulla di caldo incarnato la cui pelle dolce ma leggermente dorata dai riflessi del rosso e dall'effusione di non so che vapore amoroso splendeva come se raccogliesse su di sé i raggi di tutte le luci e di tutti i colori circostanti collera desiderio di vendetta vanità offesa svanirono d'incanto e come un'aquila che s'abbatte sulla preda la strinse a mezza vita la prese sulle ginocchia e sentì con ineffabile brezza la voluttuosa pressione di quella fanciulla le cui forme piene e copiose l'avvilupparono dolcemente vieni pachita gli disse a bassa voce parla parla pure senza aver timore questo ritiro è fatto per l'amore nessun suono ne esce e gli accenti la musica della voce amata vi sono conservati per forte che vi si gridi non si può essere uditi oltre questa porta si potrebbe anche assassinare qualcuno i lamenti sarebbero scarsi come se la vittima si trovasse in mezzo a un deserto ma chi ha così ben compreso la gelosia e le sue esigenze oh non farmi domande disse illas facendogli con incredibile leggerezza la cravatta certamente per meglio ammirarne il collo ecco il collo che amo tanto mi vuoi l'interrogazione fatta con un tono quasi lascivo trasse de marseille dalle fantasticherie in cui l'aveva gettato la dispotica disposta con cui pacchita gli aveva proibito ogni ricerca sull'essere sconosciuto che si librava come un'ombra su di essi e se volessi sapere chi regna qui pacchita lo guardò tremando tutta non sono forse io disse egli levandosi in piedi e liberandosi dalla fanciulla che cadde all'indietro voglio essere solo colpisci colpisci disse la povera schiava terrorizzata perché mi prendi dunque risponderai pacchita s'alzò dolcemente e gli occhi pieni di lacrime andò a prendere in uno dei mobili d'ebano un pugnale che offrì ad enri con tal gesto di sottomissione da intenerire una tigre offrimi una di quelle feste che sanno dare gli uomini che amano e poi uccidimi nel sonno perché non potrai risponderti ascoltami io ti sono attaccata come una povera bestia al suo piccolo e non so ancora come ho potuto gettare un ponte sull'abisso che ci divide inebriami dunque e poi uccidimi oh no no non uccidermi io amo la vita la vita è così bella e se sono schiava non sono forse anche regina potrei lusingarti dirti che non amo che te trovartelo approfittare del mio momentaneo potere per dirti prendimi come si gusta il profumo di un fiore nel giardino di un re infine spiegate insieme l'eloquenza esperta della donna e le ali del piacere estinta la sete che mi brucia potrei farti gettare in un pozzo costruito apposta per soddisfare la vendetta senza timore della giustizia un pozzo pieno di calce che ti consumerebbe interamente ti conserverei nel mio cuore io per sempre henry la fissò senza batter ciglio e il suo sguardo impavido riempì di gioia la fanciulla no non lo farò mai tu non sei caduto in una trappola ma in un cuore di donna innamorata e sarò io ad essere gettata nel pozzo come buffo tutto questo disse de marseille osservandola mi sembri una buona ragazza un tantino strana forse una sciarada vivente tutt'altro che facile a risolversi paquita non capì nulla e lo guardò dolcemente spalancando sempre più quei suoi occhi che non si potevano dire sciocchi tanto erano carichi di volutà amor mio fece ella tornando sulla sua idea di prima mi vuoi farò tutto quello che vorrai e anche quello che non vorrai rispose ridendo de marseille che si trovava finalmente a suo agio avendo deciso di lasciare che le cose andassero per il loro verso e forse contava sulla sua forza e sulla sua esperienza d'uomo fortunato per dominarla qualche ora più tardi e strapparle tutti i segreti ah gli disse ella lascia che ti metta secondo il mio gusto fai pure dispose enri pachita piena di gioia corse a prendere una vestaglia di velluto rosso che fece indossare a de marseille poi gli mise in testa una cuffia da donna e lo ravvolse in uno scialle abbandonandosi a queste pazzie che la faceva con l'innocenza di un fanciullo rideva in modo convulso e sembrava un uccello che battesse le ali ma pareva che non vedesse nulla al di là dei suoi occhi sa impossibile dipingere le inaudite dolcezze che provarono quelle due creature espresse dal cielo in un momento di gioia è forse necessario cercare di tradurre metafisicamente le impressioni straordinarie e quasi fantastiche del giovane non c'era nulla di più facile per un uomo che viveva come de marseille che riconoscere l'innocenza di una fanciulla ma per quanto questo possa sembrare strano se la fanciulla dagli occhi d'oro era certamente vergine non era altrettanto certo che fosse ingenua quella bizzarra mescolanza di mistero e di irreale l'ombra e di luce di bello ed orribile di piacere e di pericolo di paradiso e di inferno che abbiamo già incontrato in questa avventura continuava nell'essere capriccioso e sublime che de marseille aveva tra le mani tutto quello che la volutà di più raffinato e sapiente tutto quello che Henry poteva conoscere di quella poesia dei sensi che si chiama amore fu sorpassato dalla fanciulla dagli occhi d'oro fu come un poema orientale irraggiato dal sole che Saadi e Afiz hanno messo nelle loro strofe ma nel ritmo di Saadi né quello di Pindaro avrebbero saputo esprimere un'estasi confusa dolcissima e stupefatta che si impadronì di questa ragazza quando ebbe fine l'errore in cui una mano di ferro la costringeva a vivere morta e la disse morta sono morta portami in capo al mondo in un'isola in cui nessuno ci conosca e fuggiamo senza lasciare traccia ma saremo inseguiti fino all'inferno mio dio ecco il giorno fuggi non ti vedrò più voglio rivederti domani a costo di uccidere tutti quelli che mi sorvegliano a domani lo strinse tra le braccia e in una stretta nella quale era il terrore della morte le premuto un bottone che doveva corrispondere ad un campanello supplicò de marseille di lasciarsi bendare ma e se non volessi se volessi rimanere non faresti che affrettare la mia morte perché sono ormai sicura che morirò per te Henri non insisté c'è nell'uomo sazio di piaceri una tendenza all'oblio una specie di ingratitudine un desiderio di libertà una voglia di passeggiare una sfumatura di disprezzo forse di disgusto per il proprio idolo un insieme di sentimenti inspiegabili che lo rendono infame e ignobile l'esistenza di un affetto confuso ma non per questo meno reale nelle anime che non rischiara la luce celeste né profuma il balsamo santo dei sentimenti durevoli ha fatto scrivere a Rousseau le avventure di Lord Edward che chiudono le lettere della novella Louise se è vero che Rousseau si è ispirato a Richardson è anche vero che se ne è staccato in mille particolari che fanno del suo libro un'opera stupendamente originale consegnata ai posteri da quelle grandi idee che è difficile comprendere e apprezzare quando giovani non si cerca leggendo che la vivace pittura del più fisico dei nostri sentimenti mentre gli scrittori gravi e filosofici non ne usano le immagini che in funzione o per necessità d'un vasto pensiero e le avventure di Lord Edward sono fra le cose più delicate in senso europeo dell'opera Rì si sentiva dominato da questo confuso sentimento che non conosce il vero amore occorreva in qualche modo il persuasivo giudizio dei paragoni e l'irresistibile attrazione dei ricordi per ricondurlo ad una donna il vero amore regna soprattutto per via della memoria la donna che non s'è scolpita nell'animo né attraverso l'eccesso dei piaceri né per mezzo dei sentimenti potrà mai essere veramente amata e Pachita senza che Henry se ne fosse accorto era entrata in lui per queste due vie ma ora affranto dalla stanchezza della felicità e dalla deliziosa malinconia del corpo egli non poteva scrutarsi nel cuore riassaporando sulle labbra il gusto delle più vive volutà che mai avesse conosciuto si trovò sul boulevard Montmartre che il giorno spuntava guardò come ne betito la carrozza che si allontanava cavò di tasca due sigari e ne accese uno alla lanterna di una donna che vendeva acquavite e caffè agli operai ai monelli agli arbivendoli a tutto quel popolino che a parigi comincia a vivere prima che spunti il giorno se ne andò fumando il suo sigaro e si mise le mani in tasca con una non curanza veramente straordinaria che buona cosa è mai un sigaro una cosa di cui l'uomo non si stancherà mai chi pensava più a quella fanciulla dagli occhi d'oro per cui tutta la gioventù elegante di Parigi andava pazza quell'idea della morte espressa durante il piacere e che aveva tanto spesso oscurato la fronte di quella bella creatura appartenente alle Uri dell'Asia per la madre all'Europa per l'educazione e ai tropici per la nascita mi sembrava ora una di quelle trappole con cui le donne cercano di rendersi più interessanti è dell'Havana il paese più spagnolo del mondo è quindi naturale che abbia preferito ricorrere al terrore piuttosto che alla sofferenza alla civetteria al dovere per i suoi occhi d'oro ha una gran voglia di dormire vide una carrozza da piazza ferma all'angolo di Frascati in attesa di qualche giocatore svegliò il cocchiere si fece condurre a casa andò a letto e si addormentò nel sonno dei cattivi soggetti che per una stranezza che ancora i canzonettisti non hanno rilevato è profondo come quello del giusto forse per il proverbiale assioma che dice che gli estremi si toccano sul mezzogiorno De Marseille tirò le braccia e sentì i morsi di una fame da lupo una di quelle fami che tutti i vecchi soldati ricordano di aver provato dopo la vittoria perciò vide con gran piacere Paul de Menerville e infatti cosa c'è di più piacevole che mangiare in compagnia ti pensavamo tutti chiuso da più di dieci giorni con la fanciulla dagli occhi d'oro la fanciulla dagli occhi d'oro e chi ci pensa ho ben altre gatte da pelare non mi fare il discreto perché no disse ridendo De Marseille la discrezione è il più abile dei calcoli senti no non ti voglio dire nulla che hai da raccontarmi non sono disposto a concederti in pura perdita ai tesori della mia politica la vita è un fiume che serve per commerciare per quanto ho di più sacro al mondo un buon sigaro ti giuro che non sono un professore d'economia alla portata di tutti i tonti andiamo a mangiare mi costa meno offrirti un'ombletta al tonno che prodigarti il mio cervello è così che tratti i tuoi amici mio caro disse Henry che si privava molto raramente del gusto di fare dell'ironia poiché potrebbe arrivare anche a te come a molti altri di aver bisogno di discrezione e poiché t'amo molto se t'amo parola d'onore se bastassero mille franchi per impedirti di farti saltare le cervella le troveresti qui perché non abbiamo ipotecato nulla laggiù non è vero paul se tu ti battessi domani misurerei le distanze e caricherai le pistole perché tu fossi ucciso con tutte le regole se qualcuno poi me escluso s'attentasse a dir male di te in tua assenza dovrebbe misurarsi col fiero gentiluomo che sta nella mia pelle e questa si chiama amicizia ebbene quando avrai bisogno di discrezione mio caro ricordati che di discrezione venè di due tipi positiva negativa la negativa è quella degli sciocchi quella del silenzio delle porte chiuse e dei musi lunghi una discrezione da impotenti quella attiva invece procede per affermazioni se stasera al circolo io dicessi parola di gentiluomo la fanciulla dagli occhi d'oro non vale ciò che mi costa tutti appena io fossi partito esclamerebbero avete sentito quel vanesio di De Marseille che ci vorrebbe far credere che si è preso la fanciulla dagli occhi d'oro se vuole sbalazzarsi dei rivali non è mica stupido ma è un'astuzia volgare e pericolosa per grossa che la spariamo troveremo sempre degli ingenui pronti a credere la miglior discrezione è quella che usano le donne quando vogliono far le corna al marito si tratta di compromettere una donna che non amiamo per salvare l'onore di quella che amiamo e questa è la cosiddetta donna dello schermo ma ecco Lorraine che ci porti di buono ostri che d'ostenda signor conte saprai un giorno Paul quanto è divertente tocarsi della gente nascondendole il segreto dei nostri affetti provo un immenso piacere a sottrarmi alla stupida giurisdizione della massa che non sai mai ciò che vuole né ciò che le si vuol far volere che prende sempre il mezzo per il risultato che volta a volta adora e maledice innalza e distrugge che cosa deliziosa imporle delle emozioni senza riceverne domarla senza mai obbedirle se di qualcosa si può essere fieri non è un potere conquistato da noi soli e del quale noi siamo causa ed effetto principio e risultato nessuno sa io amo chi desidero forse si conoscono le persone che ho amato o desiderato come si conoscono i drammi compiuti ma lasciarmi leggere le carte in mano mai non c'è nulla di peggiore della forza giocata dall'astuzia così mi preparo ridendo alla mia carriera d'ambasciatore sempre che la diplomazia sia difficile come la vita del che dubito forte sei ambizioso vuoi essere qualcuno ma Henry tu ti prendi gioco di me come se non fossi abbastanza mediocre per arrivare a tutto quello che voglio a meraviglia Paul continua a prenderti gioco di te stesso se vuoi arrivare a prenderti gioco di tutti mentre stava pranzando quando arrivò ai sigari De Marseille cominciò a considerare gli avvenimenti della notte che gli apparvero sotto un aspetto singolare come molti grandi spiriti egli non giungeva subito sino in fondo alle cose come tutte le nature dotate della facoltà di vivere molto nel presente di esprimere e di prenderne per così dire il succo la sua seconda vista aveva bisogno per arrivare alle cause di una specie di secondo sonno tale era il cardinale Richelieu il che non esclude che gli avesse quella preveggenza che è necessaria al compimento delle grandi azioni De Marseille aveva tutte queste qualità ma dapprima si servì delle sue armi solo a servizio dei suoi piaceri e non diventò uno degli uomini politici più acuti di questi tempi che quando fu sazio dei piaceri cui pensa anzitutto un giovane che ha oro e potenza l'uomo si fa di ferro e logora la donna prima che essa lo logori De Marseille si accorse improvvisamente che la fanciulla dagli occhi d'oro l'aveva giocato quella notte in cui la volutà sempre più grande aveva finito per stralipare in torrenti poté finalmente leggere in questa pagina l'effetto così brillante scoprirne il senso riposto l'innocenza puramente fisica di Pachita le sue meraviglie nella gioia qualche parola allora oscura ora chiarissima tutto tutto gli diceva che egli aveva posato per un'altra persona ma poiché nessuna forma di corruzione gli era ignota ed egli nutriva una perfetta indifferenza per ogni sorta di capricci giustificati per lui dal fatto stesso che potevano venire soddisfatti non s'adirò per il vizio che conosceva come un vecchio amico ma si sentì ferito d'esserne stato strumento se quanto supponeva era vero il suo essere aveva subito il peggiore degli oltraggi bastò il solo sospetto a farlo montare su tutte le furie uscì nel ruggito di una tigre di cui una gazzella si sia presa gioco un grido che univa la forza della bestia all'intelligenza del demonio che hai gli fece Paul nulla non vorrei se ti si domandasse se hai qualcosa contro di me che tu rispondessi un nulla di questa fatta devi dunque batterti con qualcuno non mi batto più rispose de Marseille peggio ti dai all'assassinio forse tu travisi le parole io punisco caro amico esci fuori con degli scherzi piuttosto rugubri stamane che vuoi è la volutà che porta alla ferocia il perché non lo so e non sono abbastanza curioso per cercarne le cause questi sigari sono eccellenti una tazza di tè sai Paul che faccio una vita da brutto che sarebbe ora di scegliersi un destino di porre le proprie energie al servizio di qualcosa di degno è una bella commedia la vita il nostro ordine sociale mi fa ridere e mi spaventa insieme tant'è assurdo il governo mozza la testa dei poveri diavoli che hanno ucciso un uomo e riconosce dei tipi che spediscono al creatore con la scusa della medicina una dozzina di giovani ogni inverno la morale è impotente contro certi vizi che distruggono la società e che nessuno può punire ancora una tazza parola mia d'onore se l'uomo non è altro che un buffone che danza su di un precipizio si parla dell'immoralità delle laison dangereuse e di non so più quale altro libro che si intitola al nome di una cameriera ma esiste un libro orribile sudicio spaventoso corruttore sempre aperto un libro che non si chiuderà mai il gran libro del mondo non parliamo poi di un altro libro mille volte più pericoloso fatto di tutte le parole che gli uomini si dicono all'orecchio e le donne dietro il ventaglio la sera al ballo caro Henry sta accadendo in te qualcosa di straordinario e non c'è discrezione attiva che riesca a nasconderlo è vero bisogna che bruci il mio tempo sino a stasera andiamo a giocare chissà che non abbia la fortuna di perdere e Marseille s'alzò prese un pugno di biglietti di banca li mise nel suo astuccio dei sigari si vestì e si servì della carrozza di Paul per andare al Salon des Trangets dove per far venire l'ora di pranzo consumò il tempo in quelle alternative di perdite e di guadagni che sono l'ultima risorsa degli organismi forti costretti a girare a vuoto la sera si recò al convegno e si lasciò bendare gli occhi senza la minima protesta poi con quella ferma volontà che solo gli uomini forti sono in grado ad ottenere fissò tutta la sua attenzione e applicò tutta la sua intelligenza a indovinare le strade che la carrozza percorreva arrivò così ad avere quasi la certezza d'essere stato condotto alla rue Saint-Lazaire e precisamente davanti alla porticina del giardino del palazzo San Real e quando oltrepassata come la prima volta la porta fu posto su una specie di barella portata dal mulato e dal cocchiere comprese sentendo stridere la sabbia sotto i loro piedi la ragione di tante precauzioni avrebbe potuto libero cogliere un rametto d'arbusto osservare la qualità di sabbia attaccata alle scarpe ma trasportato per così dire aereamente in una dimora inaccessibile la sua buona fortuna doveva essere come era stata fino a quel momento un sogno ma l'uomo per sua disperazione non può far nulla di perfetto né in bene né in male e tutte le sue opere spirituali o materiali che siano portano impresso il marchio della distruzione era piovuto appena appena e la terra era umida la notte certi profumi vegetali sono più forti che il giorno ed Henry sentì quello della reseda lungo il viale per cui veniva trasportato l'indicazione doveva illuminarlo nelle ricerche che si riprometteva di fare per riconoscere il palazzo in cui si trovava il badoard di Pachita studiò anche i giri che i portatori fecero nella casa e gli parve di poterseli ricordare si trovò come la sera prima sull'ottomana davanti a Pachina che gli toglieva la benda gli sembrò più pallida e come mutata doveva aver pianto incinocchiata come un angelo in preghiera un angelo profondamente triste e melanconico la povera ragazza non aveva più nulla dell'impaziente curiosa e trepida creatura che aveva preso De Marseille sulle ali per trasportarselo al settimo cielo dell'amore e vera alcunché di così vero in quella disperazione velata dal piacere che il terribile De Marseille si sentì interamente preso da quel nuovo capolavoro della natura e dimenticò lo scopo principale del convegno che hai dunque Pachita amico disse ella portami via questa notte stessa buttami in qualche luogo dove non si possa dire vedendomi ecco Pachita dove nessuno risponda c'è qui una fanciulla dallo sguardo dorato con dei lunghi capelli là ti darò tutti i piaceri che vorrai e quando sarai stanco mi lascerai e io non mi lagnerò non dirò nulla e tu non dovrai provare alcun rimorso perché un giorno con te un giorno solo vale tutta una vita se resto sono perduta io non posso lasciare Parigi piccola mia non posso disporre di me sono legato dal giuramento alla sorte di parecchie persone che mi appartengono come io appartengo ad esse ma io posso darti a Parigi un asilo dove nessun potere umano arriverà dimentichi il potere femminile mai frase umana espresse più completamente il terrore che potrebbe dunque accaderti se io mi mettessi fra te e il mondo il veleno disse il già donia concia ti sospetta e riprese lasciando scorrere delle lacrime che brillarono sulle sue guance è tanto facile vedere che non sono più la stessa di prima ebbene se tu vorrai abbandonarmi al furore del mostro che mi divorerà sia fatta la tua volontà ma vieni e il nostro amore ci dia tutte le volutà della vita del resto supplicherò piangerò griderò mi difenderò forse riuscirò a fuggire e pormi in salvo e a chi rivolgerai le tue implorazioni silenzio fece pacchita solo con la tua discrezione mi sarà forse possibile salvarmi dammi il mio vestito insinuò henry no no disposella con estrema vivacità resta quale sei una di quegli angeli che mi avevano insegnato a odiare e nei quali io non vedevo altro che mostri e invece che c'è di più bello del sole soggiunse accarezzandogli i capelli tu non le immagini a qual punto io sia ignorante nulla nulla non ho mai imparato nulla è dall'età di dodici anni che sono prigioniera che non posso vedere un'anima viva non so né leggere né scrivere e non parlo che inglese e spagnolo com'è che ricevi lettere da londra le mie lettere eccole dissella andando a prendere delle carte in un lungo vaso giapponese e la tese a de marseille delle lettere nelle quali egli vide con sua grande meraviglia delle bizzarre figure simili a quelle dei rebus tracciate col sangue e che esprimevano frasi piene di passione ma esclamò Henry ammirando quei geroglifici che unabile gelosia aveva creato ma tu sei in potere di un genio infernale infernale ripetella ma come hai dunque potuto uscire ah disse paquita ecco da cosa verrà la mia rovina ho messo d'ogna concia fra la paura di una morte immediata e quella di una collera futura sentivo una pazza curiosità volevo spezzare il cerchio che mi stringe ardevo di vedere cos'erano i giovani perché di uomini non conoscevo che il marchese e il cristemio il nostro cocchiere e il valletto che ci accompagna sono dei vecchi ma non sarai stata sempre chiusa la tua salute è stessa o passeggiavamo solamente la notte per la campagna o lungo la senna lontane dalla gente non sei fiera di così grande amore no disse ella non più questa vita nascosta seppure non priva di incontri non è che la tenebra rispetto alla luce intendi perché cos'è dunque luce sei tu mio Adolf tu guidarai la mia vita tutte le cose appassionate che mi sono state dette e che ho ispirato le provo ora per te in certi momenti non comprendevo nulla della vita ora so come ci si ama mentre sino ad oggi sapevo solo da essere amata senza amare portami via lascerò tutto per te prendimi come un gingillo se vuoi ma ti ami vicina vicina sino a quando mi spezzerai non ti pentirai no e la disse lasciando che leggesse nei suoi occhi che rimasero di un bell'oro puro e chiaro sono dunque io il preferito pensò Henry che aveva intrevisto la verità ma si trovava allora disposto a passare soprattutto in favore di un amore così ingenuo se Pachita non gli doveva alcun conto del suo passato pure il più piccolo ricordo assumeva per lui le proporzioni di un delitto si sentì dunque la triste forza di un'opinione propria della sua amante e si diede a studiarla pur abbandonandosi ai piaceri più affascinanti che mai Uri discesa dal cielo avesse riservato al suo amato sembrava che la natura avesse creato Pachita esclusivamente per l'amore e da una notte all'altra essa aveva fatto progressi rapidissimi adonta della sua potenza e della sua sazietà in fatto di piacere e della stanchezza della veglia de Marseille trovò nella fanciulla dagli occhi d'oro quel vero Aram che la donna voluttuosa sa creare e al quale un uomo non rinuncia mai Pachita sembrava rispondere interamente a quella passione che tutti gli uomini grandi sentono per l'infinito e che il Faust esprime con tanta drammaticità il Manfredi con tanta poesia quella passione che spingeva Don Giovanni a frugare nel cuore delle donne nella speranza di trovarvi quell'infinito cui tendono tanti cacciatori di spettri che gli scienziati credono intravedere nella scienza e i mistici trovano in Dio la speranza di possedere al fine l'essere ideale col quale lottare sempre senza fatica incantò De Marseille che per la prima volta dopo tanto tempo aprì il suo cuore i suoi nervi si rilassarono la sua freddezza sgelò al contatto di quell'anima ardente le sue dottrine troppo assolute svanirono e la felicità diede alla sua vita ai bei colori bianco e rosa del boudoir sotto il pungolo di una volutà suprema andò oltre i limiti che fino allora egli aveva posto alla passione non volle essere superato da quella fanciulla che pareva essere stata creata proprio per soddisfare i desideri della sua anima e trovò nella vanità che spinge l'uomo a stravincere le forze per domare la fanciulla ma trascinato al di là dei limiti entro cui l'anima è ancora padrona di se stessa si perdette in quegli incantevoli limbi che le persone da poco chiamano così scioccamente gli spazi immaginari fu tenero dolce aperto al punto da rendere pachita quasi pazza perché non andavano a sorrento a nizza a chiavari qualche andiamo laggiù a passarvi così tutto il resto della vita disse egli a pachita con voce penetrante e me lo chiedi essa gridò come se io avessi una volontà e come se mi differenziassi da te altro che per darti volutà se vuoi un ritiro degno di noi scegli l'asia l'unico paese in cui l'amore possa aprire le sue ali hai ragione ripresa Henry andiamo in India laggiù la primavera è eterna la terra non produce altro che fiori e l'uomo può condurre vita principesca senza che lo si critichi come in questi idioti paesi rovinati dalla chimera dell'uguaglianza andiamo dove si vive fra milioni di schiavi sotto un sole che illumina candidi palazzi in un'aria profumata dove quando non si può amare si muore e dove si muore insieme disse Paquita ma non aspettiamo domani partiamo subito e portiamo Cristemio con noi in fede mia qual soluzione migliore nella vita del piacere andiamo pure in Asia ma ci vuol danaro ragazza mia e per aver danaro bisogna che io sistemi le mie cose ella non poteva capirlo dell'oro ce n'è fino al soffitto qui ma non è mio che importa riprese ella se ne abbiamo bisogno prendiamolo se non t'appartiene appartenermi tu non mai forse presa quando l'avremmo preso esso ci apparterrà egli si mise a ridere povera innocente che sai tu delle cose di questo mondo ecco qualcosa so anch'io e così dicendo attirò Henry su di sé al momento stesso in cui De Marseille dimentico di tutto accarezzava il desiderio di appropriarsi per sempre di questa creatura ricevette proprio nel punto culminante una pugnalata che gli trafisse il cuore da parte a parte Paquita che l'aveva sollevato vigorosamente come per contemplarlo aveva gridato oh Margarita Margarita gridò il giovane arrossendo ora capisco perfettamente e balzò sul mobile in cui era racchiuso il lungo pugnale ma fortunatamente per lui e per Paquita d'armadio era chiuso l'ostacolo accrebbe la sua rabbia ma gli ridiede la sua calma si mosse per riprendersi la cravatta poi avanzò verso di lei con un'aria così ferocemente significativa che seppur ignara del delitto di cui era colpevole tuttavia Paquita capì che la morte l'aspettava ed un tratto si slanciò all'altro lato della camera per evitare il nodo fatale che De Marseille voleva stringerle attorno al collo ci fu una colluttazione nella quale sveltezza agilità e vigore furono pari da una parte e dall'altra a un certo punto Paquita gettò contro le gambe del suo amante un cuscino che lo fece cadere e approfittando del respiro che le lasciò il momentaneo vantaggio fece scattare una molla cui rispondeva a un segnale d'allarme il mulatto arrivò in un lampo e in un batter d'occhio balzò su De Marseille e gli mise un piede sul petto tenendogli il tallone volto verso la gola De Marseille capì che muoversi voleva dire farsi schiacciare perché volevi uccidermi amor mio De Marseille non rispose ti sono forse dispiaciuta in qualcosa parla spieghiamoci Henry conservò la calma dell'uomo forte che si sente vinto contegno freddo e silenzioso del tutto inglese in cui una rassegnazione momentanea testimoniava la coscienza della sua dignità e aveva già pensato pure nell'impeto della sua collera che non era prudente compromettersi uccidendo la ragazza senza aver preparato il delitto in modo da potersi assicurare l'impunità oh mio amato riprese Pachita dimmi qualcosa non lasciarmi senza un addio non voglio conservare nel cuore lo spavento che tu vi hai gettato parlerai e così dicendo batte il piede piena di collera De Marseille le lanciò per tutta risposta uno sguardo che significava così bene tu morrai che Pachita si precipitò verso di lui vuoi uccidermi se la mia morte può farti piacere fai pure e la fece un segno a Cristemio che levò il piede di sopra il giovane e se ne andò senza mostrare sul volto di voler minimamente giudicare la padrona ecco un vero uomo disse De Marseille indicando con un gesto cupo il mulatto non ve' altra devozione che quella che serve l'amicizia senza giudicarla quest'uomo ti è sinceramente amico posso donartelo se vuoi e stai pur certo che ti servirà con lo stesso attaccamento che ha per me se io ti raccomanderò a lui sembrò attendere una parola di risposta e riprese con tenerezza Adolf dimmi una buona parola dunque sarà presto giorno Harry non rispose egli aveva una ben trista qualità e gli uomini considerando grandezza ogni cosa che abbia l'apparenza della forza finiscono per divinizzare la follia egli non sapeva perdonare e saper ricredersi che è una delle grazie dell'anima era inconcepibile per lui il padre gli aveva trasmesso la crudeltà degli uomini del nord di cui il sangue inglese è fortemente tinto indomabile nei buoni come nei cattivi sentimenti aveva trovato l'esclamazione di Pachita tanto più orribile in quanto gli aveva guastato il più dolce trionfo che mai avesse lusingato la sua vanità d'uomo la speranza l'amore e tutti i sentimenti erano stati esaltati in lui tutto aveva fiammezzato nel suo cuore e nella sua mente ma un vento freddo aveva spento quelle faci che dovevano illuminare la sua vita Pachita stupita non seppe far altro nel suo dolore che dare il segnale di partenza questa è ormai inutile dissella gettando via la benda se non mi ami più se mi odi tutto è finito ella s'aspettava uno sguardo che non venne e cadde come morta il mulatto lanciò ad Henry uno sguardo talmente pieno di significato da farlo tremare e si può dire che era la prima volta che nessuno gli negava il dono d'un coraggio raro se tu non l'ami come si deve se le procurerai la più piccola pena ti ucciderò pareva dire quel rapido sguardo De Marseille venne condotto con un'attenzione e dei riguardi quasi servili lungo un corridoio appena illuminato da qualche spiraglio e in fondo al quale per una porta segreta giunse al giardino del palazzo di San Real con tutte le precauzioni il mulatto lo guidò per un viale di tigli che finiva su di una porticina la quale a sua volta si apriva su di una strada a quei tempi deserta e Marseille osservò tutto attentamente questa volta il mulatto non l'accompagnò ma al momento della partenza quando si affacciò alla porticina per rivedere il giardino Henry incontrò gli occhi bianchi di Cristemio e scambiò uno sguardo con lui fu da parte di entrambi una provocazione una sfida l'annuncio di una guerra senza quartiere di un duello di selvaggi in cui le leggi ordinarie non contavano più nulla e il tradimento e la perfidia erano pienamente ammessi Cristemio sapeva che Henry aveva giurato morte a Pachita Henry sapeva che Cristemio voleva ucciderlo prima che gli uccidesse Pachita così si intesero a meraviglia l'affare si complica in modo assai interessante si disse a Henry dove va il signore gli domandò il cocchiere De Marseille si fece condurre da Paul de Manerville per più di una settimana Henry mancò da casa senza che alcuno potesse indovinare il luogo dove egli si trovava e l'attività che gli svolgeva quel ritiro lo salvò dai furori del mulatto e cagionò la perdita della povera creatura che in lui aveva riposte tutte le sue speranze e tutto il suo amore l'ultimo giorno della settimana verso le undici di sera Henry arrivò in carrozza davanti alla porticina del giardino del palazzo di San Real quattro uomini l'accompagnavano il cocchiere era certamente suo amico perché appena arrivato si levò ritto come una vigile sentinella che presta attenzione al minimo rumore uno degli altri tre si mise di guardia alla porta il secondo si fermò nel giardino appoggiato al muro l'ultimo che aveva in mano un mazzo di chiave ci accompagnò ad Henry Henry e gli disse siamo traditi da chi mio buon Ferragù non dormono tutti fece il capo dei divoranti qualcuno in casa non deve aver mangiato né bevuto guarda una luce abbiamo il piano della casa da dove viene non ho bisogno di tanti piani rispose Ferragù viene dalla camera della marchesa ah gridò De Marseille sarà arrivata da Londra oggi quella donna vuol portarmi via anche la vendetta ma se non ci ha prevenuti ti assicuro mio buon gratin che la consegno alla giustizia ascolta l'affare è fatto disse Ferragù a Henry i due amici tacquero e udirono dei gridi soffocati che avrebbero commosso una tigre la tua marchesa non ha pensato che i suoni sarebbero usciti dal camino disse il capo dei divoranti col sorriso d'un critico che ha scoperto un errore in un'opera quasi perfetta noi soli sappiamo prevedere tutto disse Henry aspettami voglio andare a vedere come si trattano nelle questioni di famiglia dio mi fulmini se non la fa bruciare a fuoco lento De Marseille salì rapidamente la nota scalinata e riconobbe la via dello spogliatoio ma appena ebbe aperto la porta lo prese quel brivido che anche nell'uomo più risoluto produce la vista del sangue del resto lo spettacolo che soffersa ai suoi occhi presentava per lui più di un motivo di meraviglia la marchesa che era donna aveva calcolato la sua vendetta con una perfidia raffinata propria degli animali deboli essa aveva dissimulato la sua collera per assicurarsi del delitto prima di punire troppo tardi mio diletto mormorò Pachita morente volgendo verso De Marseille i suoi occhi pallidi la fanciulla dagli occhi d'oro spirava soffocata nel suo sangue i candelabri assesi un profumo delicato eppur persistente un certo disordine che denunziava all'occhio dell'uomo esperto follie comuni a tutte le passioni significavano chiaramente con quanta sapienza la marchesa doveva aver interrogato Pachita il sangue sparso dappertutto nel bianco appartamento tradiva una lunga lotta le mani di Pachita s'erano stampate sui cuscini ovunque ella s'era attaccata alla vita ovunque ella s'era difesa ed era stata colpita brandelli della tappezzeria erano stati strappati dalle sue mani insanguinate che certo avevano lottato a lungo Pachita doveva aver cercato di scalare la parete i suoi piedi nudi erano impressi sulla spalliera del divano sul quale essa era senza dubbio corsa il suo corpo martoriato dai colpi di pugnale del suo carnefice testimoniava l'accanimento col quale ella aveva difeso una vita che l'amore di Henri le faceva a Sicara lasciva a terra e morendo aveva morso il collo del piede di madame de Saint-Réal ritta in piedi col pugnale insanguinato ancora in mano la marchesa aveva i capelli strappati e il corpo coperto di morsi alcuni dei quali sanguinavano la sua veste strappata la scopriva seminuda il seno era tutto graffiato ella era veramente sublime la testa avida e furiosa aspirava l'odore del sangue la bocca restava anelante e semiaperta e le narici pareva non bastassero al suo respiro vi sono animali che infuriati si gettano sul nemico lo mettono a morte e nella tranquillità della vittoria sembrano dimenticare ogni cosa altri girano attorno alla vittima la sorvegliano e simili all'Achille e D'Omero fanno nove volte il giro di Troia trascinando il nemico per i piedi ella non si accorse di Henri innanzitutto sapeva troppo bene d'essere sola per temere dei testimoni in secondo luogo era troppo ebbra di sangue caldo troppo animata dalla lotta troppo esaltata per vedere Parigi tutta intera se mai Parigi avesse formato un circolo attorno a lei non avrebbe avvertito la folgore non sarà infatti neppure accorta che Pachita era aspirata e continuava a parlarle come se essa avesse potuto ancora ascoltarla muori senza confessarti le diceva va all'inferno mostro di ingratitudine d'ora innanzi potrai essere solo del demonio per il sangue che gli hai dato tu mi devi tutto il tuo sangue muori muori e soffri mille morti sono stata troppo buona ad ucciderti così rapidamente avrei dovuto farti provare tutti i dolori che mi lasci triste eredità io vivrò ma quanto infelice ridotta a non poter amare altro che Dio la contemplò ancora e dopo una pausa è morta si disse è morta ed io non le sopravviverò la marchesa fece per buttarsi sul divano in preda ad un dolore che le toglieva persino la parola così s'accorse di Henri de Marseille chi sei gridò andando verso di lui con il pugnale alzato Henri le fermò il braccio poterono così guardarsi bene in faccia un'orribile sorpresa agghiacciò loro il sangue nelle vene le loro gambe tremarono come quelle di due cavalli spauriti i due menekmi non s'eran mai somigliati tanto pronunciarono la stessa parola nel medesimo istante vostro padre è Lord Adli entrambi assentirono col capo ella era fedele al nostro sangue disse Henri mostrando Pakita non si poteva essere meno colpevoli rispose margarita eufemipo Raberil dettandosi disperata sul corpo di Pakita povera povera fanciulla come vorrei ridarti la vita ho sbagliato Pakita perdonami tu sei morta e io vivo ma sono io la più infelice in quel momento apparve l'orribile madre di Pakita vieni a dirmi che non me l'avevi venduta perché io la uccidessi gridò la marchesa so perché esci dalla tua tana ma taci te la pagherò due volte andò a prendere una borsa d'oro nel mobile d'ebano e la buttò sdegnosamente ai piedi della donna il suono dell'oro suscitò un sorriso sull'immobile volto della georgiana arrivo in tempo per te cara sorella disse Henri la giustizia ti ricercherà non temere rispose la marchesa una sola persona poteva chieder conto di questa ragazza e Cristemio è morto e la madre di Henri indicando la vecchia essa è un paese in cui le donne non sono altro che cose che si possono vendere comprare uccidere e ha una passione che annulla tutte le altre e che avrebbe annullato anche il suo amore materno se ne avesse avuto una passione quale interrompe Henri interrompendo la sorella il gioco che Dio te ne guardi ma chi ti aiuterà a far scomparire le tracce di questo tuo capriccio che la giustizia non ti perdonerebbe la madre rispose la marchesa ci rivedremo disse Henri che immaginava l'inquietudine dai compagni e voleva andarsene al più presto no fratello non ci rivedremo donno spagna voglio entrare in un convento di Los Dolores sei ancora troppo giovane e bella fece Henri prendendola fra le braccia e baciandola addio disse ella nulla si potrà mai consolare di chi rappresentò per noi l'infinito otto giorni dopo Paul de Manerville incontrò Henri alle tuyerie sulla terrazza dei foglianti ebbene ribaldo che ne è della nostra bella fanciulla dagli occhi d'oro è morta di che detigia di che Grazie a tutti